direi che siamo live partiamo buongiorno a tutte buongiorno a tutti buongiorno buongiorno vai tu manfredi mi vado io buongiorno a tutte buongiorno a tutti stamattina siamo ospiti di questo evento organizzato questo webinar organizzato da femme dal sito storico di modena e abbiamo il piacere di poter poterci confrontare con francesco filippi e francesco filippi è uno storico un saggista ed educatore all'attivo diverse pubblicazioni tra cui perché siamo ancora fascisti e mussolini ha fatto anche cose buone chiaramente questo titolo provocatorio e nell'incontro di oggi francesco proverà di spiegarci i meccanismi della comunicazione guardando a come il fascismo utilizzato la comunicazione ma guardando anche a come all'oggi viene utilizzata la comunicazione quindi cercando di tenere un filo conduttore tra passato e presente e ricordiamo che è possibile chiaramente fare domande in chat anzi è chiesto in qualche modo di fare domande in chat francesco farà prima un intervento e subito dopo appunto verrà aperta la chat e quindi potrà no la chat verrà aperta subito ma le domande fatte in chat verranno riportate e speriamo di poter dar vita a un interessante dialogo non mi dilungo oltre ringrazio tutti per l'organizzazione e lascio la parola a francesco grazie 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 manfredi grazie agli organizzatori devo dire che la formula webinar che sembrava così strana fino a poco tempo fa ormai sta diventando parte integrante del nostro modo di comunicare ed anche questo probabilmente in futuro sarà oggetto di webinar cioè come cambia il nostro modo di comunicare attraverso il web in tempi di pandemia ve lo dico perché sono abbastanza emozionato mi dicono che c'è un sacco di gente oggi a seguire questo incontro ma io non vedo nessuno quindi diciamo che una delle difficoltà di questa struttura sarà che io dovrò stare attento a evitare di fare l'unica l'unica cosa che non si può e non si deve perdonare a un oratore cioè annoiarvi cercherò in tutti i modi di farlo cercherò in tutti i modi di costruire dei ponti di senso tra me e voi cercherò soprattutto di sfruttare una serie di giochetti riguardanti la comunicazione per vedere se siamo tutti tutti in attenzione lo dico a quel sicuro centinaio di studenti che in questo momento sta seguendo e legittimamente sta anche facendo altro mi raccomando guardate quando attraversate la strada non ascoltate solo quello che dico e state ben attenti perché nella seconda parte di questo incontro con ogni probabilità tenterò anche di interrogarvi e magari potremmo riuscire a fare un piccolo eh gioco a quiz appunti in cui chi avrà seguito eh avrà dei eh cotion e ricchi premi a dia della della battuta iniziale che mi serviva semplicemente per tentare di prendere ehm dimestichezza con le cuffie il microfono e il puntolino nero accanto a quello verde che in questo momento mi sta mandando a voi eh io sono qui per porre una serie di domande a cui cercheremo di rispondere tutti insieme la cui eh prima centrale e direi eh drammaticamente ehm drammaticamente eh odierna è eh è la più semplice di tutte cioè eh per quale motivo noi oggi eh 26 novembre 2020 stiamo ancora qui a parlare di Benito Mussolini la maggior parte di voi con ogni probabilità dirà eh sì certo ci sta eh è una domanda che 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 ci dobbiamo porre che vorremmo fare eh perché vorremmo fare altro in questo momento non parlare di Benito Mussolini eppure eh è una domanda che secondo me va sviscerata per capire l'efficacia la puntualità e la forza del tipo di comunicazione che ad un certo punto all'inizio del novecento nasce come prodotto del made in Italy e si esporta e si estende in tutto il mondo perché eh parliamo di Benito Mussolini perché conosciamo Benito Mussolini sì da un punto di vista storico storiografico è sicuramente una delle figure centrali del novecento drammaticamente centrali del novecento perché è l'uomo che ha trascinato 40 milioni di persone all'interno di una guerra mondiale fallimentare è un uomo che ha eh demolito la struttura liberale dell'Italia diciamo democratica con i crismi e con i paletti dell'epoca eh per sostituirla con una dittatura ventennale è l'uomo che nel bene e nel male ha ricostruito rinarrato e riforgiato l'identità nazionale nel secolo il novecento che è il secolo delle identità nazionali forti insomma è uno che eh ha fatto parlare di sé però la vera domanda è per quale motivo nel duemila e venti stiamo ancora qui ad analizzare in maniera così eh attenta e anche occhiuta il il modo di stare sulla scena di questo personaggio non uso le parole a caso quella eh mussoliniana è una vera e propria costruzione di un personaggio attoriale eh che sopravanza e vince su altre comunicazioni noi parliamo di Mussolini ma eh probabilmente la maggior parte di voi specie quelli che in questo momento stanno facendo il liceo non hanno sentito mai parlare di persone che venute dopo di lui hanno avuto comunque un impatto sulla nostra sulla storia del nostro paese non molti di voi ricorderanno la faccia di Amintore Fanfani non molti di voi ricorderanno la faccia di Palmiro Togliatti forse un po' di più ma non moltissimi ricorderanno la faccia di Alcide De Gasperi e tra l'altro tutto questo è licito ed è normale in realtà eh però la maggior parte di voi la quasi totalità di voi potrebbe riconoscere il profilo inconfondibile di Benito Mussolini potrebbe riconoscerne la caricatura potrebbe riconoscerne il corpo ne ha visto le fotografie per quale motivo all'interno del del panorama della messe di eh conoscenze che tutti noi ci portiamo dietro a livello storico a livello sociale a livello culturale che fanno parte dell'eredità della cultura memoriale del nostro paese ebbene per quale motivo Mussolini è sempre così presente il webinar di oggi vorrà tenterà di spiegare per quale motivo eh il brand Mussolini ha avuto così tanto successo mentre altri non ne hanno avuto e gira tutto attorno alla comunicazione una delle cose che vorrei sottolineare oggi è che eh questa lezione eh questo webinar questo incontro ehm stabilirà eh una una cesura una data di differenza ehm all'interno della comunicazione non solo italiana ma europea oserei dire in questo caso occidentale politica del novecento possiamo dire che ci sia un pre Mussolini e un post Mussolini il pre Mussolini chiamiamolo così cioè tutto il periodo che viene prima del fatto che il mondo conosca la comunicazione mussoliniana è fatto in un certo modo il post Mussolini eh periodo in cui storicamente eh oso dire viviamo ancora oggi è fatto in un altro modo e oggi avremo ad analizzare i modi strutture di come questa vera e propria rivoluzione della comunicazione comincia a prendere piede nel nostro paese negli anni venti ehm perché ci riguarda perché stiamo ancora qui a confrontarci con i postumi di quel cambio comunicativo e come vedremo nella seconda parte del mio intervento stiamo ancora qui a confrontarci con dei degli schemi che vennero inventati un centinaio d'anni fa e che evidentemente sono ancora oggi abbastanza efficaci partiamo dalla genesi partiamo da dalla base da tutto eh Benito Mussolini crea un nuovo modo di comunicare perché perché Benito Mussolini ha molte cose noi lo conosciamo ovviamente come dittatore come ehm beh diciamo sì come politico nella sua prima parte come ehm spesse volte immagine iconica della nostra storia eccetera 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 ma prima 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 Mussolini prima di andare al governo prima di eh anche di tuffarsi in prima persona nel lagone eh politico fondando i i fasci di combattimento nel 1919 eh Mussolini ha avuto una serie di vite precedenti la prima quella che eh si ricorda con eh con meno attenzione ma che andrebbe molto più indagata è la vita dello sbandato è la vita dell'anarchico è la vita del possiamo dire del cacciato di del clandestino quando se ne andò in Svizzera e poi venne cacciato del giovane socialista del ragazzo renitente alla leva che manifesta contro l'Italia che scende in guerra eh per invadere la Libia nel 1911 eh un ragazzo con delle profonde idee radicate eh nel socialismo che poi a un certo punto evidentemente eh cambiano e la prima vita di Benito Mussolini è questa gli anni della formazione gli anni diciamo gli anni vostri quelli in cui passa dal eh tentativo svogliato di diventare maestro elementare a quella che è la sua vera passione cioè la politica la politica fatta anche del menare le mani poi ha una seconda vita che è quella che al momento eh per oggi credo ci interessa anche di più ed è ehm la vita del giornalista Benito Mussolini scopre ad un certo punto di saper scrivere e di saper scrivere bene tra l'altro Mussolini sarà per tutta la vita un giornalista e per tutta la vita scriverà pezzi per giornali prima non suoi poi suoi poi ovviamente del proprio regime e quindi per tutta la vita sarà collegato a un'idea di scrittura e questo non è secondario per tracciare quella che poi sarà la storia della costruzione della comunicazione perché anzi è centrale questo argomento in quanto in quanto Mussolini è un bravo giornalista quando entra nel quotidiano davanti che è il quotidiano dei socialisti che allora prima della prima guerra mondiale era il suo partito eh fa la scalata eh giornalista semplice redattore vice direttore poi diventa direttore del giornale che lo assume se ne va dalla provincia eh romagnola quindi dal fornivese e a proda la prima eh capitale culturale che gli incontra sul suo cammino cioè Milano la Milano dei prima della guerra e Mussolini scrive benissimo scrive talmente bene che fa dell'avanti un punto di riferimento all'interno di quello che è il contesto politico non solo socialista con Mussolini direttore l'avanti è uno dei giornali che chi vuole essere informato di quello che accade in Italia deve leggere stiamo parlando di un'Italia molto diversa da quella di oggi stiamo parlando di un'Italia in cui quasi la metà della popolazione non sa o sa molto poco leggere quindi eh in un contesto in cui i giornali sono effettivamente qualcosa di elitari o che eh vengono letti eh la domenica all'osteria da chi sa leggere per tutti gli altri in questo contesto molto limitato limitante eh Mussolini si fa le ossa a livello formativo e comincia a imparare che cosa significhi scrivere bene scrivere bene con una postilla eh scrivere bene per un giornalista all'epoca non significa semplicemente saper mettere in fila delle belle frasi significa anche saper scrivere quello che la gente vuole leggere come fai a vendere un giornale scrivi delle cose che la gente vuole trovare in questo giornale vuole leggere all'interno di questo giornale questo era verissimo all'inizio del novecento ed era semplicistico dire che Mussolini ci riuscì facendo vendere un sacco di copie dell'avanti e scrivendo degli articoli che la gente voleva leggere l'appuntamento con l'editoriale del direttore Mussolini diventò nel corso del tempo per molti l'unico motivo per comprare il giornale dei socialisti e in questi anni di gavetta Mussolini impara una cosa molto interessante cioè scopre quello che piace alla gente lo fa attraverso dei tentativi anche degli errori crea delle polemiche in mani crea la capacità di far parlare di sé attraverso i propri articoli è un opinion maker come lo chiameremo oggi già dalle pagine di quel giornale quando usa titoli roboanti feroci quando attacca direttamente dei politici per lo più semisconosciuti in realtà quando costruisce ad hoc la polemica politica per far leggere la gente perché punto su questa sottolineatura perché questa è la base della rivoluzione della comunicazione che vedrà in Mussolini l'inventore di qualcosa di nuovo e cioè l'inventore del rapporto chiamiamolo così tra quello che si può dire a livello pubblico e quello che la gente vuole sentir dire a livello pubblico una cosa che dovete tenere lì da parte perché ahimè anche la base dell'algoritmo di tutti i social media che oggi utilizziamo da facebook il non so se ci avete presente facebook è il social dei vecchi ci stanno i vostri genitori o io su facebook è questa cosa antichissima in cui dei boomer si scambiano delle immagini ridiche la mattina poi c'è il social dei finti giovani che ormai non sono più cioè instagram e poi c'è il social dei giovani veri e propri quelli veri nota a margine i giovani veri hanno meno di 22 anni so che vi sto dando una coltellata se avete più di 22 anni e state sui social sappiate che siete già vecchi per il mercato dei social mi spiace mi spiace dirvelo però tic toc al momento è real la sua fotocopia in salsa instagram sono i due pezzi che al momento possiamo definire come i social innovativi instagram c'ha dieci anni ragazzi cioè non se ne può più tornando però a benito mussolini all'epoca la creazione dell'opinione passava attraverso i giornali e mussolini era uno che sapeva creare opinione tanto è vero e sapeva l'importanza dell'informazione tanto è vero che nel 1914 quando per una serie di motivazioni che non sono a oggi nemmeno del tutto ben chiara gli stessi storici nel senso che ci sono varie teorie scuole di pensiero quando nel 1914 scoppia la prima guerra mondiale e il partito socialista che è il partito di quelli che la guerra dovranno andare a farla cioè gli operai e i contadini si schiera in italia per la neutralità ebbene mussolini uno di quelli che dice no dobbiamo intervenire dobbiamo costruire un'italia nuova un'italia grande e dobbiamo assolutamente scendere in campo contro la germania e l'austria ungheria questa cosa lo farà cacciare dal giornale perché ovviamente viola la linea del giornale di partito è la prima cosa che fa mussolini anche qui in maniera un po in qualche modo non chiarissima probabilmente con del denaro che gli arriva da altre parti insomma in maniera un po interessata fonda un nuovo giornale che mussolini voglia parlare al popolo con il suo giornale è evidente banalmente dal titolo che sceglie per il suo giornale cioè il popolo d'italia e con cui fa propaganda per la guerra e che poi diventerà l'organo del proprio partito fino a quando l'organo del proprio modo di presentarsi al paese della nazione fino a quando dopo con la fondazione del partito nazionale fascista diventerà uno degli organi ufficiali di comunicazione del partito perché punto molto oggi ora in questo momento sulla carriera giornalistica di mussolini perché è lì che impara tutto benito mussolini e imparerà tutti i passaggi formali che lo porteranno ad essere non solo un capo di governo ma anche un enorme comunicatore all'interno dell'apparato del proprio governo se noi oggi abbiamo ancora presente e chiaro il modo di presentarsi di benito mussolini è perché quel modo di presentarsi è frutto di una tecnica non è improvvisazione è frutto di un modo nuovo di analizzare il contesto questa cosa è fondamentale per capire per quale motivo ci siamo detti ancora oggi benito mussolini è presente nel dibattito politico sociale culturale anche social degli italiani ancora adesso perché la formula comunicativa è innovativissima quando dopo il 1919 si fondano i fasci di combattimento benito mussolini in prima persona diviene uno dei rappresentanti del tentativo di svegliere di distruggere la l'italia liberale di creare un nuovo modo di affrontare diciamo l'apparato dello stato cioè l'idea del governo fascista e quando dopo il 1922 benito mussolini riesce a prendere il potere a causa di diciamo della connivenza soprattutto della corona e delle elite industriali e militari al governo ebbene è lì che si espande e si gonfia di potere la capacità comunicativa di mussolini diciamo che dal 1922 con l'apparato dello stato ai propri piedi la rivoluzione comunicativa del fascismo entra nel nel proprio acme allora su cosa si basa questa rivoluzione prima di tutto su un paio di accorgimenti generali che ridisegnano il modo di comunicare a premessa che cosa significa comunicare a che potrei essere io formula un concetto lo spedisce a b che è l'ascoltatore e all'interno di questo passaggio ci sono una serie di scambi che devono essere analizzati per capire se la comunicazione è valida o meno tolta la teoria se io dico buongiorno ho qualcosa dentro di me che voglio analizzare cioè l'idea di che cosa significhi buongiorno per me può essere vero ironico può essere un saluto può essere una cosa che dico con un chalance eccetera 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 c'è il modo in cui formulo questa mia idea la parola buongiorno e c'è il modo in cui voi accogliete in la parola buongiorno cioè quando l'ascoltatore riesce a gestire e come riesce a percepire e a gestire questo messaggio buongiorno per voi che magari oggi trovate che il buongiorno non lo sia per nulla potrebbe essere un messaggio che ha un chiaro intento provocatorio vi dico buongiorno voi mi rispondete buongiorno un cavolo mi hanno detto che non devo dire parolacce almeno per i primi 20 minuti e quindi mi tengo duro può essere per voi la capacità buongiorno di capire che effettivamente è iniziato una buona giornata è iniziato qualcosa di diverso eccetera 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 il valore di questo messaggio è dato dal rapporto tra come io a lo costruisco è come voi b lo percepite questo era molto chiaro in mussolini e mussolini crea un rapporto diretto e senza filtri tra sé e il proprio uditorio qual è la grande rivoluzione comunicativa di mussolini come la possiamo in qualche modo dipingere attraverso delle immagini attraverso due grandi sistemi di comunicazione il primo è anche abbastanza ovvio è il microfono il microfono utilizzato in particolare all'inizio del novecento all'interno dei discorsi pubblici è un grande sistema che appiattisce appiattisce e distrugge quelle che sono le differenze tra chi parla e chi ascolta è un appiattimento illusorio vi avviso nel senso che c'è uno che parla a molti e questa cosa sembra un discorso in realtà è un monologo diretto il microfono che nei primi del novecento si sviluppa anche a livello tecnologico il fascismo e la comunicazione musulianiana sfruttano molto e con attenzione le innovazioni tecnologiche dell'epoca e il microfono diventa la base da cui partire per costruire la comunicazione che badate bene non è secondario a seconda del mezzo che tu utilizzi torniamo a noi facebook instagram o tiktok ognuno di voi sa che un post su facebook una storia instagram o un video su tiktok devono essere costruiti in maniera diversa parlando della stessa cosa per avere successo un post su facebook deve avere una serie di battute non troppo lunghe e sotto un'immagine che richiami quello che è il contenuto di quello che voi scrivete instagram invece pretende essendo un socio visuale che la prima cosa più interessante tra le cose che voi volete mostrare di voi stessi sia proprio l'immagine o nella storia il video short che voi volete utilizzare a cui poi mettete dei filtri delle comunicazioni eccetera delle delle frasi eccetera eccetera su tiktok ancora più velocemente c'è l'idea che l'immagine in movimento sia essa stessa il messaggio e per mussolini la comunicazione attraverso il microfono è fondamentale perché stabilisce banalmente le pause nel discorso avete mai pensato al perché gli esordi dei discorsi mussolini sono un richiamo a chi ascolta si parte con un italiani punto esclamativo quella frase quella anzi quella parola italiani rimane come un richiamo diciamo come un richiamo della foresta all'interno della voce del microfono fa eco e dà l'idea che quella singola persona davanti al microfono stia parlando proprio con te con voi con quelli che si identificano all'interno della piccola ma significativa parola italiani e su questo si gioca tutto mussolini usa il microfono e lo utilizzerà in maniera sapiente anche quando il microfono si i derivati diciamo così del microfono quando la radio sarà un sistema di diffusione delle notizie e delle e delle informazioni valido e utile non solo Mussolini lo utilizzerà in maniera molto chiara molto diretta ma lo regalerà agli italiani è una delle cose che il regime mussoliniano fa mettere a disposizione degli italiani la radio in modo che tutti all'interno delle loro abitazioni potessero durante il regime ascoltare quello che il regime aveva da dire loro una vera e propria rivoluzione comunicativa perché torniamo indietro cosa c'era prima di Mussolini cosa c'era prima del Mussolini a microfono ebbene c'erano i politici dell'italia liberale su tutti prendiamo giovanni giolitti che è una di quelle figure che segna il novecento l'inizio del novecento italiano come comunicava il più grande dei politici italiani bene comunicava così faceva discorsi alla camera dei deputati o al senato che venivano poi riportati dai giornalisti scritti sui giornali e poi letti da chi leggeva il giornale vi ricordate il sistema dei filtri di cui abbiamo parlato prima a che dice a b buongiorno ecco vediamo ora in questo semplice schema la moltiplicazione dei filtri quindi via via la perdita di capacità di segnale di questo messaggio il politico a giovanni giolitti dice una cosa che viene ascoltata alla camera dei deputati o al senato del regno e viene ascoltata da un giornalista che la capisce come come la capisce se è un giornalista favorevole a giolitti in qualche modo la capirà positivamente se è un giornalista dell'opposizione al contrario la capisce la elabora ne estrapola le informazioni che secondo lui non secondo giolitti ma secondo lui sono valide le mette su carta e si scrive un pezzo questo pezzo poi andrà letto da chi legge il giornale quindi lettore del giornale troverà il giornalista troverà la commento del giornalista leggerà l'articolo secondo le proprie idee e filtrerà quello che ha detto il giornalista che è già un filtrato di quello che ha detto giovanni giolitti che speriamo sia quello che ha detto giovanni giolitti quello che effettivamente giovanni giolitti pensa questo schema a cascata fa decadere potremmo dire in gergo tecnico l'efficacia della comunicazione se poi voi sul tavolo mettete quanti italiani leggevano il giornale leggevano la pagina politica di un qualsiasi giornale nell'italia del primo novecento capite quale sia l'efficacia di giolitti di fronte al microfono mussolidiano in cui il passaggio è io dittatore che parlo di fronte al microfono a voi che state ascoltando una parificazione totale vi ho parlato di due espedienti il primo il microfono è molto tecnico il secondo di cui vi sto per parlare è teatrale la politica nel novecento italiano grazie parra per colpa anzi per colpa di benito mussolini diventa più che nell'ottocento teatro cioè esibizione di qualcuno che attraverso la propria fisicità porta avanti il proprio messaggio e l'esperienza diretta di questo trasporto di messaggio è banalmente il balcone il balcone che è un'icona del regime mussolidiano c'è questo palazzo che si chiama palazzo venezia roma che sta si affaccia su piazza venezia roma non c'è molta fantasia nei nomi ma è anche comodo ricordarlo palazzo venezia ha un grande balcone che si affaccia su questa piazza quando venito mussolini va al potere poco dopo fa di palazzo venezia il suo ufficio e dal balcone di palazzo venezia si affaccia per fare i grandi discorsi è lì che nel 1936 proclama l'impero sui colli fatati di roma la sera tra l'altro all'imbrunire in maniera molto plastica è lì che dichiara guerra alla gran bretagna e alla francia 10 giugno del 1940 è lì che fa i grandi proclami al popolo perché metto l'accento sul balcone prima di tutto perché per una grossa parte dell'italia ancora ad oggi l'uomo sul balcone è diventato un'icona a sé forse probabilmente non per le più giovani tra le generazioni ma per quelli diciamo fino alla mia età l'idea di un uomo che pontifichi dal balcone è un'idea molto totalitaria e che richiama direttamente l'espressione mussolidiana ricordo nella fantastica puntata di simpson in cui la famiglia simpson va in italia ritirare la macchina del signor barnes e incontrano telespalla bob che si è rifatto una vita in italia una delle prime cose che fa omer nel paesino rappresentato da matt groening nei simpson è quella di affacciarsi al balcone e indovinate un po dopo due secondi diventa l'icona di benito mussolini anche lisa in era molto attenta non solo alla comunicazione ma alla storia del paese italia fa segno a suo padre di smetterla di imitare quel dittatore del primo novecento gustate dovrebbe essere l'ottava o nona stagione dei simpson so che è archeologia perché si parla di a fine degli anni 90 però vale ancora appena sono ancora prodotti molto validi questi di comunicazione dei simpson e il balcone dicevamo il balcone ha una forza teatrale scenica incredibile fortissima ci sono due o tre scene iconiche cioè auto rappresentative nella storia mondiale che hanno a che fare con un balcone mussolini e romeo giulietta qualcuno di voi l'avrà pensato sono queste due rappresentazioni in cui una persona sta in alto e qualcuno dal basso è costretto a guardarla di sopra e nella teatralità si crea nella teatralità di questo gesto si crea la disparità tra chi parla e chi ascolta che è direttamente proporzionale alla forza di questo messaggio non prendete la come secondaria perché mettere un uomo su un balcone è una cosa molto simile a quello che avviene ogni domenica dall'altare di ogni chiesa cattolica o ancora di più nelle chiese protestanti del nord Europa quando il predicatore sta in alto e parla da folla ecco benito mussolini prende la forza di questo messaggio chi sta in alto che parla chi sta in basso ha il copyright di questa cosa è nella bibbia esodo mosè che parla dall'alto del monte sinai a tutto il proprio popolo quindi diciamo che di richiami ce ne sono i plurimillenari non è vero che mussolini inventa tante cose è vero che sa utilizzare bene molti passaggi è il primo politico che parla direttamente dal balcone prima di lui la gente si affacciava e basta dal balcone ma non diceva le cose la gente il papa a roma e il re pochissime volte tra l'altro perché il contatto con la folla non era amato il balcone fa di benito mussolini qualcosa di incredibilmente significativo per l'immaginario comune e sapete perché perché il balcone di palazzo venezia a piazza venezia a roma è fatto in una maniera molto particolare io quando vedevo le immagini su youtube dei discorsi mussolini ebbene sì io sono una di quelle persone che su youtube non cerca i road rage in russia ma guarda questo tipo di filmati luce lo ammetto faccio anche faccio anche quella guarda anche gli scontri tra le auto e gli incidenti mi piace moltissimo e anche quello che combinano i gattini come facciamo tutti però guardo anche youtube per vedere i filmati dell'epoca ebbene io quando vedevo mussolini che parlava dal balcone dentro di me automaticamente senza che nessuno me lo dicesse mi figuravo questo balcone nell'alto dell'iperuraneo un balcone fatto a chilometri di altezza pensato apposta per schiacciare la gente che sotto guardava in alto slogandosi la cervicale il proprio leader ebbene poi sono andato a roma finalmente un giorno come fanno tutti sono andato a piazza venezia e a palazzo venezia davanti a palazzo venezia e ho scoperto una cosa che il balcone in realtà non è molto in alto è a circa il secondo piano nobile di questo palazzo saranno a spanne una quindicina di metri non di più che cosa significa questo che in quella piazza molto grande fatta molto bene perché è una piazza che dà aria al palazzo antistante significa che le prime quattro cinque mila persone che erano contenute che potevano essere contenute in quella piazza mentre mussolini parlava riuscivano a vedere il volto di mussolini che non era distante anzi era molto vicino riuscivano a vedere l'espressività fisica di mussolini riuscivano a fare quella cosa che ogni avviene in teatro non so se siete gente che che va a teatro o nei grandi film avete presente i monologhi forti dei bei film che ne so aragorn davanti ai cancelli di mordor che dice non è questo il giorno che a un certo punto vi guarda negli occhi a voi spettatori e voi che sapete di non essere né elfi né nani né soldati di gondor però ad un certo punto sentite quel friciccorino e dite si sta parlando anche a me re aragorn è illusione scenica ma è un'illusione scenica che vi serve a trattenere con voi un messaggio ed è un'illusione scenica che banalmente sto tentando di costruire anch'io in questo momento con voi guardando diretto in camera ed era quello che faceva benito mussolini negli anni venti e trenta quando parlava alla sua italia lo faceva da un balcone e le prime tre quattro cinquemila persone avevano l'idea che ci fosse questo dialogo diretto tra loro e il duce e questo rapporto diretto prima di tutto è una cosa rivoluzionaria rispetto a quella che era la politica di prima nessuno pensava di poter parlare direttamente o che giovanni giolitti parlasse direttamente a lui al singolo italiano suddito del regno mentre mussolini creando questa immagine di sé e costruendo la passo a passo riesce a creare l'idea che ci sia un rapporto diretto tra lui e ogni singolo italiano questa cosa evidentemente non è vera perché mussolini parla a tutta italia che significa non parlare a nessuno in particolare e parla soprattutto a livello politico però crea dei passaggi formali chiamiamoli così all'interno della forza della comunicazione per cui riusciva a toccare singolarmente la maggior parte delle persone con cui voleva parlare e questa rivoluzione comunicativa dopo di lui viene copiata da tutti perché efficacissima perché se voi andate a vedere le immagini della dichiarazione di guerra di guerra del 10 giugno del 1940 cioè il momento in cui il regime mussolino sceglie e vuole scendere in guerra contro la gran bretagna e la francia quello che si instaura non è un ciao italiani ho deciso di dichiarare guerra la gran bretagna e la francia andiamo da domani si menano le mani ma è un grande dialogo finito in cui un uomo che ha creato la propria immagine di padre della patria in questo caso il duce benito mussolini dice agli italiani abbiamo un problema il mondo non ci ascolta e sotto la folla rumoreggia il mondo non ci ascolta e noi dobbiamo fare in modo che il mondo ci ascolti e per la prima volta dobbiamo piantare un paletto e dire da qui in poi comandiamo noi è il sunto ovviamente di questo discorso che è stato ovviamente registrato e più volte riportato ma il sunto del discorso è il rapporto tra un padre ormai anche in là con l'età nel 1940 e una folla che dialogano sullo l'opportunità di cosa sia meglio fare per il futuro del paese cioè per il futuro della grande famiglia di cui mussolini del padre se voi andate ad ascoltare quel messaggio ad un certo punto vi rendete conto che pare non sia nemmeno mussolini che dichiara guerra a gran bretagna e francia ma sia il popolo italiano rappresentato in quella piazza che chiede a gran voce al proprio padre padrone guerra 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 non perché le migliaia di persone li accorse e i milioni di persone che poi sentirono questo messaggio a radio ritenessero che la guerra fosse qualcosa di bello utile eccetera 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 ma perché ormai si era creato quel sistema che oggi ancora voi potete notare vedere se ci andate negli stadi in cui magari non tifi nemmeno tanto per una una squadra ma quando sei in uno stadio in uno stadio grande quando sei a san siro quando sei a delle alpi quando sei all'allianz arena a monaco e ti senti all'interno di 20 30 40 50 mila persone che tutte insieme fanno il tifo per una squadra quindi tutte insieme si identificano in un dato momento e bene quando cominciano a saltare tutti insieme e 50 60 mila in quella struttura salterete anche voi perché perché state provando l'ebbrezza di essere parte di un organismo più grande un organismo che non esiste nessuno di quelli che stanno allo stadio vi aiuterà a pagare le bollette dopo finita la partita e però vi abbraccerete con queste persone perché sentirete una comunità di intenti con quelle persone ed è quello che benito mussolini con la sua comunicazione tenta e spesso riesce a fare lo fa nel 36 quando parla della conquista dell'impero e ogni singolo italiano che lo sente pensa di avere un pezzetto di terra in etiopia conquistato di etiopia quindi banalmente pensa essere diventato ricco lo sente nel 1940 quando scoppia la guerra e un milioni di italiani anziché preoccuparsi del fatto che stanno per entrare in un vortice che distruggerà il paese sono felici perché finalmente tutti insieme si farà qualcosa di bello di grande di forte la costruzione di questo mito comunicativo è talmente pervasiva che la gente mano a mano non si accorge delle forzature che questo mito di propaganda porta nella stessa struttura dello stato faccio un esempio che secondo me è illuminante poi prendetelo come volete nel 1922 benito mussolini ancora con le strutture del del parlamento liberale mi verrebbe da chiamarlo democratico ma sappiamo che l'italia del 1922 non è la democrazia che che noi pensiamo possa essere non non ha il valore la parola democrazia che che noi diamo oggi a questo termine però nel parlamento eletto del 22 egli con i sotterfugi che sappiamo e col lato di forza che sappiamo diventa capo del governo ebbene alla fine d'ottobre del 1923 con un motu proprio ancora in regime diciamo in qualche modo liberale con ancora la gente e i parlamentari i deputati che votano nel parlamento mussolini fa una cosa al contempo piccola ma significativa da un punto di vista della comunicazione fa coniare alla zecca di stato una moneta commemorativa con il suo volto per il primo anno di governo di mussolini ora non era mai accaduto nella storia d'italia che dopo un singolo anno di governo un presidente del consiglio prendesse si prendesse la briga di coniare una moneta celebrativa di se stesso cosa penseremo noi oggi se all'interno del nostro contesto democratico il governo che oggi è in carica volesse festeggiare in maniera così brutale diretta la propria ascesa al potere dicendo è un anno che comandiamo con ogni probabilità saremo tutti indignati è un simbolo piccolo ma è uno dei tanti che fanno capire il cambio di registro che la comunicazione la propaganda fascista permettono di fare al regime fascista cioè nel 1923 dopo un anno che questo dal palazzo del governo continua a dire che mussolini la novità che il fascismo è il futuro che non ci sarà possibilità che l'italia cambierà dopo questo e dopo un anno di questa retorica che tra l'altro è retorica piuttosto vuota perché nel primo anno di di governo non è che il fascismo o il governo mussolini uno chiamiamolo così ancora con l'appoggio di qualche liberale in giro faccia sfracelli o cambi il volto dell'italia quello avverrà dopo nel dal 24 al 26 con le leggi cosiddette fascistissime dopo il il crollo della facciata per bene del regime attraverso eh lo scandalo del dell'assassinio di di matteotti quello avverrà dopo eh l'italia diventa fascista non tra il 22 e il 23 e però la propaganda fascista fa sì che nel 1923 la maggior parte delle persone che ascoltano questa propaganda dica beh sì ci sta che questo evento rivoluzionario venga ricordato da una moneta che questo evento rivoluzionario entri a far parte della nostra iconografia e lo diverrà talmente tanto che mussolini fa una di quelle cose che che fanno eh soli grandi rivoluzionari un po pazzi eh ad un certo punto cambia lo scorrere del tempo ad un certo punto eh vado a memoria non vorrei dire eh stupidaggini ma mi pare dal 1927 in poi da ordine che eh il tempo venga scandito non solo con la numerazione che ricordiamo noi cioè 1927 cioè 1927 anni dalla nascita presunta di Gesù ma introduce un nuovo modo di contare il tempo voi troverete in molti palazzi in molte costruzioni sono sono state ancora abbattute o addirittura in alcuni anzi in molti documenti ufficiali dell'epoca la scritta eh e f quinto e f sesto e f decimo e f decimo e f significa decimo anno della era fascista cioè 1932 nel caso perché la propaganda musulmaniana si spende per rinominare il tempo perché non c'è nulla di più efficace che dominarlo il tempo all'interno di una propaganda comunicativa così forte così diretta e così tecnicamente strutturata riepilogando il microfono e il balcone creano il personaggio iconico Mussolini un intero apparato di propaganda sottostante alimenta costantemente il mito Mussolini e qui veniamo al secondo passaggio che mi prendeva sottolineare e cioè la propaganda fascista porta alla distruzione materiale sociale e culturale questo paese attraverso una guerra quella cosiddetta fascista 40 43 poi abbiamo mesi di quella che è il più grande storico del fascismo del novecento Claudio Pavone se vi dicono che sono altri non credetegli è Claudio Pavone il più grande storico del fascismo del novecento definisce una guerra civile tra italiani una guerra anche che implica uno scontro di moralità e noi ci troviamo dopo il 1945 con una situazione per cui il fascismo è identificato con questa distruzione con questa perdita di identità nel paese eppure dopo il 1945 ancora in sottotraccia questo racconto pubblico rimane effettivo efficace e non perde di smalto la domanda che ci dobbiamo porre e ritorniamo alla domanda di prima perché dopo il 1945 le persone passatemi in termine non si svegliano non capiscono che questa propaganda è effettivamente una propaganda fallace una propaganda costruita un insieme di fake e di sotterfugi di carattere comunicativo per quale motivo rimane in sottotraccia e ancora oggi noi a livello di comunicazione benito mussolini ce lo troviamo tra i piedi ebbene perché questa comunicazione così efficace dopo il 1945 non viene contrastata non viene contrastata da altro mi spiego meglio a livello teorico c'è sempre bisogno che qualcuno dica qualcosa a livello pubblico c'è sempre una comunicazione di base cioè ci sono sempre cose che vengono dette per quanto riguarda lo stato italiano appunto abbiamo bisogno di una narrazione o rinarrazione che si porti dietro un significato forte dopo il 1945 non essendoci altri modi di comunicare in sottotraccia rimane molto spesso diciamo il racconto fascista edulcorato e ripulito di alcuni accenni troppo brutali mi specifico meglio con una metafora quando noi raccontiamo abbiamo bisogno di raccontare i nostri nipotini delle favole possiamo farlo in maniera molto creativa ci sono dei libri fantastici in cui si parla di giganti che fanno la cacca di occhi che vanno a trovare i loro amici al di là del fiume e quindi vivono delle avventure ci sono un sacco di favole nuove che girano walt disney è un produttore sincopato di storie che noi possiamo leggere e rileggere però c'è un momento in cui queste nuove favole perdono l'efficacia e allora si ritorna alle vecchie favole di una volta ancora oggi nel nell'europa nell'occidente degli anni 2020 vanno per la maggiore tutti voi conoscete perché non siete poi così vecchi come pensate o come sperate di voler far credere voi tutti conoscete la favola di biancaneve la favola di biancaneve che se andiamo ad analizzarla da un punto di vista dello storytelling è qualcosa di terribile una una bambina orfana che viene cacciata dalla matrigna e si trova a vivere con sette uomini inquietanti in un bosco insomma dovremmo ragionare su questo tipo di di favola eppure tutti noi la conosciamo e funziona e ce l'abbiamo ancora in mente se il nostro nipotino la nostra nipotina ci chiedono una favola della buonanotte e noi siamo disperati perché l'abbiamo già raccontato sette volte del gigante che fa la cacca prenderemo a spunto biancaneve per raccontarglielo cenerentola questa donna anche lei priva di affetti e supporti familiari che si trova vessata da una matrigna cattiva e che per cambiare la propria vita per fortuna una sposa un principe cioè in sottotraccia l'unico modo per le ragazze ad un certo punto di emanciparsi è quella di trovare un uomo che le ascolti e che le sostenga questo tipo di favole che sono totalmente deleterie e che vengono poi ridigerite ricordo delle espressioni nuove la stessa la stessa walt disney per esempio si ricorda di mulan ricordate mulan è una storia fantastica una storia di una ragazza che riesce a salvare la propria famiglia fingendosi un uomo anche lì voi ragazze all'ascolto non è che usciate molto bene da questo armamentario di vecchie favole e al di là del webinar di oggi sul sul fascismo io un'idea sul rinfrescare questo tipo di comunicazione anche attraverso le favole ve la butto là si potrebbe fare certo è arrivata frozen ci sono ci sono molte letture però siamo ancora schiavi di quello schema lì ed è uno schema che il fascismo ha riempito in maniera molto accurata la storia del fascismo ventennale per molti versi è la favola di un padre saggio che prende per per mano il popolo italiano e gli fa fare delle cose è una base perfetta per una storia pensate per esempio all'impatto che ha che hanno le bonifiche le bonifiche adesso non ne parlo perché ne ho parlato ampiamente già in altri contesti sono una storia una bella favola che ancora oggi per i cosetti eh negazionisti o per i nostalgici del fascismo ha un proprio frutto un proprio potere una propria forza perché benché siano smentite brutalmente dalla storiografia le bonifiche sono un fallimento economico sociale e di struttura amministrativa eppure ancora oggi mi incontro io personalmente incontro le persone che mi dicono beh però ha fatto le bonifiche Mussolini è stato bravo perché ha fatto le bonifiche ora al di là della bufala in sé la forza di questa storia si basa sul fatto che è una bella storia perché se noi la andiamo a smontare con le tecniche della pubblicità odierna scopriamo che la storia delle bonifiche non è nient'altro che la storia raccontata di un signore di una certa età un padre riconoscibile perché ha una divisa cioè benito Mussolini che a un certo punto prende per mano il proprio popolo come se il popolo fosse un bambino da curare e insegnandogli come si fa gli fa produrre nuova terra perché poi le bonifiche questo sono trasformare una palude in un terreno coltivato coltivabile che quindi dia da mangiare c'è qualcosa di magico in questo racconto che è un racconto pubblicitario un vecchio che prende per mano i propri figli e nipotini e gli fa produrre nuova terra con la quale i figli e i nipotini si potranno sfamare wow una pubblicità delle auto di oggi non potrebbe essere più efficace e questo regime di comunicazione non solo non è stato smontato dopo il 45 e qui veniamo finalmente alla seconda parte del mio intervento ma è stato ampiamente riutilizzato dopo il 1945 per la sua efficacia chiariamo una cosa benito mussolini negli anni 20 30 del 900 viene copiato per la sua efficacia persone che passano dalla storia come dei grandi comunicatori vedi wiston churchill copiano le espressioni mussoliniane e ovviamente le ridigeriscono per il contesto britannico perché perché wiston churchill sa benissimo che gli inglesi degli anni 30 e 40 non sono gli italiani degli anni 30 e 40 però le basi sono messe churchill i suoi discorsi prima li fa la camera dei comuni e dopo li registra e li manda alla radio la bbc in modo che tutti lo possano sentire e li ripete e ripete più volte come fa un attore in modo da fare una prova attoriale diretta e attraverso i propri discorsi passa alla storia combatteremo sulle spiagge dirà nel 40 combatteremo sulle colline combatteremo strada per strada ecco questa struttura dei discorsi di wiston churchill sono è frutto di un'esperienza pluridecennale che viene da fuori che viene dall'italia che viene da mussolini nel 1925 uno dei primi ad accorgersi della forza della potenza di questo comunicatore è un giovane austriaco naturalizzato tedesco che nel 25 ha un po di tempo perché si trova in galera a monaco e scrive un libro un libro tra l'altro che ha un titolo abbastanza evocativo lo intitola la mia battaglia questo giovane un po scapestrato è niente meno che adolf hitler e il mein kampf è diventerà poi quello che tutti noi conosciamo il diciamo la bibbia ideologica del nazismo del nazionalsocialismo tedesco ebbene tra le tante castronate che troverete in questo libro perché obiettivamente diciamo che è uno di quei libri che dovrebbe essere letto per capire quanto vuoto sia è uno è un libro icona come altri un libro che tanti nominano ma nessuno ha mai letto adesso non voglio paragonarlo ma ovviamente non lo paragonerò però è tipo la bibbia tipo il corano quelle cose che tipo sanremo quelle cose che tutti sanno che esistono ma nessuno effettivamente si è mai sorbito dall'inizio alla fine ebbene io per lavoro l'ho fatto ci trovate all'interno di questo sproloquio lungo qualche centinaio di pagine anche un pezzo in cui adolf hitler sottolinea una cosa l'uomo quell'uomo lì quell'italiano lì benito mussolini è uno che effettivamente dice hitler ha capito come comunicare la missione diretta che gli italiani e il popolo italiano a grande bravo benito mussolini dice hitler nel suo modo di comunicare hitler copierà mussolini nella comunicazione da un certo punto di vista non arriverà mai alla capacità comunicativa di mussolini però farà del messaggio comunicativo mussoliniano qualcosa di utile per la sua scalata al potere in germania tant'è vero che che hitler rimarrà sempre ammirato e avrà sempre una profonda stima e amicizia per mussolini tant'è vero che una parte della storia d'italia viene anche diciamo condannata da questa amicizia perché dopo l'otto settembre uno dei motivi per cui mussolini ritorna al potere è il fatto che hitler creda che solo mussolini possa in qualche modo governare l'italia dopo la fine della guerra fascista ma andando più avanti mussolini lo copiamo tutti e la base di comunicazione che oggi noi abbiamo è quella ancora oggi stilata da mussolini un centinaio quasi ormai di anni fa prendete la comunicazione social standard e poi ditemi se non trovate degli appigli come funziona per esempio il social dei super vecchi twitter twitter è quella cosa lo spiego per chi non ce l'ha di cui ogni tanto vedete gli screenshot su facebook o su instagram dei vecchi che non può non trovano spazio da altre parti scrivono su twitter e usano un modo di comunicare molto veloce molto snello perché il social lo impone devi essere molto stretto in quello che dici devi mandare messaggi diretti quindi devi essere chiaro non devi perderti in subordinate devi piegare il linguaggio a quello che è il mezzo scrivere un tweet evidentemente non è scrivere un saggio o banalmente un articolo e attraverso questo devi riuscire a comunicare una platea come funziona twitter e in generale come funzionano i grandi mezzi di comunicazione social che abbiamo noi un singolo rappresentato da una bacheca con un'immagine iconica lo sappiamo tutti quanto sia difficile trovare la propria immagine profito sui social dice a un proprio uditorio selezionato e selezionabile qualcosa e questo uditorio può mettere like o altre forme di agreement di accordo di modo di supportare questa scritta in alcuni casi ricommentano sotto con l'illusione di avere un dialogo ecco la versione twitter comunicativa di oggi ma che anche la funzione facebook comunicativa di oggi ed è anche la funzione instagram della comunicazione di oggi è paro paro cambiate le tecniche e le tecnologie il tipo di comunicazione tra il singolo sul balcone con il microfono e il popolo sotto tutti i politici occidentali chiamiamoli così quindi che vivono in un regime di necessità di visibilità comunicativa perché ovviamente ci sono dei regimi in cui come poi fece effettivamente il fascismo la parola del capo è quella non si discute e allora in questo caso che ne so i grandi dittatori dell'asia non hanno nessun bisogno di avere account twitter fortemente seguiti però invece nel mondo della comunicazione un po più feroce della politica comunicativa dell'oggi invece un politico che si rispetti deve avere un account con cui parlare direttamente al proprio popolo mi ricordo che ci fu addirittura una polemica o meglio molti notarono che un paio un anno e mezzo fa ormai vado a memoria e quando ci fu il cambio tra un ministro dell'interno e l'altro in molti sottolinearono che l'attuale ministro dell'interno la morgese non avesse un account facebook e molti dicevano ma questa vuole fare il ministro e non ha un account facebook rifletterei su questo perché significa che oggi 2020 si ritiene che la capacità di un politico di governare sia anche legata alla capacità di un politico di comunicare che è una delle tante cose che benito mussolini insegnò e ci insegnò ma torniamo alla comunicazione odierna che cos'è un social se non un piccolo balcone piccolo grande che tutti noi possiamo avere che tutti noi possiamo aprire attraverso cui comunicare delle cose e comunicare delle cose in maniera eh badate bene non certa non strutturata ma ampiamente ampiamente filtrata noi siamo dei terribili censori di noi stessi e se qualcuno di voi ancora non lo crede vi faccio un esempio antipatico però un esempio molto realistico la maggior parte di voi credo abbia instagram e la maggior parte di voi sa che eh la funzione prediletta oggigiorno di instagram instagram nasce come una eh a livello tecnico una eh bacheca un album di foto che poi eh si amplia nel tempo e che ha una rivoluzione nella propria comunicazione ad un certo punto quando sull'iconcina che tutti noi abbiamo e che rappresentano noi stessi all'interno della nostra bacheca del nostro profilo attorno a quell'iconcina cliccando quell'iconcina si può fare una cosa molto interessante cioè creare una storia le stories eh sono una rivoluzione della comunicazione che personalmente perché faccio lo storico di mestiere mi ha travolto non le riuscivo a capire e poi quando le ho capito ho detto wow siamo entrati finalmente in una puntata di black mirror che cos'è una storia instagram una storia instagram non ve lo devo spiegare tecnicamente è un immagine un filmato ehm qualsiasi tipo di contenuto oggi si è allargato molto eh un qualcosa che volete comunicare voi che dura che vogliamo comunicare noi perché ho anche io instagram anzi seguitemi eh che vogliamo comunicare che dura poco che dura 15 secondi al massimo non ricordo ma di cui potete ehm intuire la durata ed è uno spezzone una storia appunto che racconta qualcosa di noi che ne so ho fatto una buona colazione foto del cappuccino della brioche la mando e la mia comunicazione verso la mia platea dal mio balcone sarà sto facendo una buona colazione interessa qualcuno questa cosa spoiler al 99 per cento dei casi no le vostre storie le nostre storie non interessano a nessuno tranne a noi stessi come voi mettete like o come voi mettete il cuoricino alle storie o alle immagini degli altri sperando semplicemente che vi venga ricambiato e che questo curi la vostra eh dipendenza da like la nostra dipendenza da like ecco sappiate che funziona esattamente così anche per gli altri le nostre storie sono qualcosa che facciamo per noi ma che ci illudiamo di fare per gli altri torniamo alla comunicazione della storia come si costruisce una storia instagram io di solito faccio questa domanda in presenza con le classi a cui eh faccio lezione e vengono fuori eh una serie di di boiate pazzesche di falsità pazzesche i i primi di e quindi ve le sciorino e vi vi esimo da da dal pensarle c'è sempre quello che ti dice io faccio le storie instagram per raccontare quello che mi sta accadendo mezzo filosofico la presa diretta non è vero non è assolutamente vero noi non costruiamo eh la comunicazione diretta reale e la realtà attraverso le storie instagram noi costruiamo la nostra immagine attraverso le storie di instagram facciamo l'esempio della serata perfetta facciamo l'esempio della serata perfetta facciamolo anche in un periodo che non sia questo in cui si possa uscire e vedere delle persone la serata perfetta è sì io che mi sono vestito nel modo giusto che mi sento al momento giusto che sono felice di esserci il mio dress code parla per me e sto per andare a una festa vado a questa festa e c'è il lui o la lei che io volevo trovare ci provo e la serata sta andando alla grande poi a un certo punto la serata si spezza il lui o la lei che io volevo trovare trova il lui o la lei che lui o lei voleva trovare e io rimango da solo e passo l'altra metà della serata a piangermi addosso e se sono proprio scemo scemo a bere e a perdere il controllo di me facendo delle cose di cui mi vergognerò questa è una serata oso dire una serata abbastanza normale per la maggior parte di quelli che hanno delle serate e non sono sposati ovviamente e qual è il punto fondamentale che quando noi andremo a fare la storia instagram di queste otto ore che abbiamo vissuto nessuno di noi racconterà tutto nessuno di noi farà verità storica come direbbero i miei colleghi alcuni dei miei colleghi riguardo questa struttura è probabile che di questa storia racconteremo il nostro fantastico dress code quelle scarpe che mi pezzo racconteremo faremo vedere immagini di noi che ci divertiamo insieme agli altri più difficilmente faremo vedere immagini di noi che piangiamo perché lei o lui non ci ha voluti più difficilmente faremo vedere immagini di noi che vomitiamo in un'ortensia perché abbiamo esagerato con gli alcolici perché perché queste sono immagini deteriori di noi e anzi se qualcuno qualche buon tempo nella festa farà un filmato di noi che ci rendiamo ridicoli e ne farà una storia questa pur essendo la verità storica come direbbero dei miei colleghi non ci piacerà e non la manderemo in giro e anzi la cancelleremo e costruiremo un sistema attraverso cui giustificare quello che è avvenuto e non diremo di quella serata la verità ma diremo di quella serata quello che noi vogliamo che gli altri sappiano e quando una storia viene particolarmente bene che cosa facciamo la mettiamo in evidenza cioè la mettiamo sotto in questa struttura instagram in modo che la gente che ci conosce da poco possa sfogliarla in maniera compulsiva e possa capire chi noi siamo ebbene quando noi costruiamo così un nostro profilo instagram e la maggior parte di noi lo fa stiamo creando la nostra storia in qualche modo sì ma stiamo di più creando la nostra memoria per gli altri stiamo costruendo il nostro messaggio per gli altri e sapete dove l'abbiamo imparato questo a mettere in risalto le cose positive a cancellare le cose negative a bannare a chiudere la porta della nostra visione a quelli che non vogliamo ebbene l'abbiamo imparato da un sistema di comunicazione che dagli antichi egizi alla damnazio memoria dei romani vede poi nel novecento al suo apice indovinate chi proprio benito mussolini l'uomo che crea la propaganda e che crea la propria verità che deve rimanere e che copiano tutti mica solo altri regimi brutali e totalitari come quello hitleriano che copiano tutti a livello politico e a livello sociale c'è una trasformazione del modo di fare marketing dopo gli anni 20 e 30 attraverso l'utilizzo e la forza di questa politica noi usiamo instagram come un regime totalitario e creiamo la nostra piccola storia totalitaria la nostra piccola memoria totalitaria attraverso le nostre scelte di cosa ricordare e di cosa non ricordare e non ne faccio una colpa io stesso sono il primo che corre a mettere sul proprio profilo facebook gli articoli encomiastici per quello che combino e poi quando c'è qualcuno che parla male di me mi imbroncio un attimo e pubblico gattini non lo faccio più da tempo per fortuna mi sono curato da questo però accade pensate questo a livello di struttura nazionale pensate a com'è fatto un instagram di una nazione l'instagram di una nazione esiste in realtà passatemi questo termine e lo possiamo rintracciare attraverso una serie di scelte la repubblica italiana in cui viviamo a livello di comunicazione sceglie il proprio calendario per esempio le feste civili che noi abbiamo sono un mezzo per raccontare noi stessi le storie in evidenza che abbiamo su instagram una nazione ce l'ha in ogni singolo libro di testo che parla della storia del paese come fatto un libro di testo i libri di testo che avete voi in mano è fatto da tutto l'insieme dei fatti accaduti all'interno del nostro ci sono ancora fatemi dei cenni perfetto sono scomparso un attimo ma probabilmente è la censura del mio vicino di casa ma resisterò dicevo i manuali di storia di un paese cioè i manuali in cui si racconta la storia di un paese sono una scelta tra tutto quello che è avvenuto nel passato tra l'insieme dei fatti nel passato che mette in evidenza proprio come le nostre storie instagram determinati momenti e ne lascia da parte altri per quanto riguarda per esempio la storia del nostro paese troverete e troveremo tutti un'evoluzione di questi testi che però sono ancora zeppi per quanto riguarda la storia d'italia di guerre di prima e seconda guerra mondiale che sono messe in evidenza di risorgimento dell'epoca dei comuni adesso sto andando a memoria non so che cosa ci sia nei vostri libri di storia però guardateli non solo per studiarli ma per capire anche su 300 pagine di testo come si è scelto di dare 20 pagine al rinascimento e un paragrafo al colonialismo italiano sono scelte sono scelte che strutturano il nostro modo di comunicare ma che non sono totalmente arbitrarie sono frutto della volontà di esprimersi al mondo la comunicazione oggi per esempio attraverso instagram o attraverso tiktok fa di noi degli esseri comunicativi e questo modo di comunicare racconta molto di noi e questo è tutto modo di strutturare l'importanza della comunicazione che ci deriva proprio da quel cluster all'inizio del novecento in cui ad un certo punto comunicare quello che si fa diventa più importante di fare ed è un passaggio che la propaganda di tutti i paesi prendono in maniera molto chiara e diretta c'è un ultimo passaggio che vorrei toccare con voi che però secondo me è interessante e che ha a che fare poi lo giudicherete voi sul modo ancora oggi di comunicare questo passato perché noi dobbiamo avere presente come abbiamo fatto l'analisi di quella che è la forza del microfono la forza del balcone la forza di vestirsi con una divisa banalmente è una scelta non secondaria un dittatore con una divisa richiama la forza militare del paese eccetera eccetera dobbiamo ancora oggi secondo me capire il mondo della comunicazione in cui viviamo ora in cui viviamo adesso perché ci sono una serie di messaggi che passano in sottotraccia ma che modificano il nostro modo di pensare se volete sapere banalmente come lavora la comunicazione oggi prendete uno dei luoghi in cui si spendono più soldi per fare comunicazione oggi sapete qual è le pubblicità delle auto l'auto le macchine sono il mezzo diciamo il bene mobile più costoso che in media una famiglia si trova ad affrontare come spesa ricorrente più della macchina c'è a casa diciamo ma non è che uno ogni sette otto anni a meno che non abbia possibilità o sia molto sfortunato perché non gli piace riesca a cambiare casa ogni sette otto anni o anche meno quindi il mercato della pubblicità delle auto riuscire a vendere un'auto è qualcosa di molto positivo e quindi indovinate un po la gente che riesce a vendere attraverso le pubblicità le auto è quella più pagata e quindi si presume perché il capitalismo ci insegna sta cosa la più brava prendete una pubblicità delle auto qualsiasi e analizzatela come dovrebbe fare un esperto di comunicazione come dovremmo essere tutti noi la pubblicità media delle auto non parlo di marche ci racconta del fatto che noi possiamo spendere del denaro per raggiungere degli obiettivi di solito quando si tratta di auto poderose su quelle robe quei mezzi di trasporto totalmente inadatti ai nostri città ma che ci piacciono molto no quelle auto molto grosse la pubblicità di solito ci racconta che noi attraverso quell'auto riusciremo a realizzarci riusciremo a diventare migliori riusciremo ad avere la felicità perché perché attraverso lo sport utility vehicle che andiamo ad acquistare riusciremo riuscirò io alla veneranda età di 39 anni ad arrivare in cima alla marmolada cosa che tra l'altro a me ve lo dico non mi interessa ad arrivare in cima alla marmolada però quest'auto ci dice che potrò realizzarmi attraverso la guida di uno strumento che ricordiamoci è uno strumento un'auto dovrebbe servire per andare da A a B e quindi questo dovrebbe essere il motivo per cui spendiamo del denaro ma invece le pubblicità ci insegnano che le auto più prestigiose vengono guidate qui scado in maniera un po' antipatica in un cliché che però è molto vero e lo dico soprattutto alle ragazze e alle donne collegate le auto le guidano gli uomini nelle pubblicità di solito se un'auto viene guidata da una donna è perché c'è qualcosa che quest'auto non ci sta dicendo del tutto mi ricordo la pubblicità dell'opel agila di qualche anno fa che diceva sì è una macchina brutta però è una macchina comoda le auto grandi sono per maschi purtroppo le pubblicità vengono create in questo modo e raccontano le pubblicità delle auto raccontano a noi uno spezzone del paese molto chiaro e cosa significa mettere un uomo alla guida di un'auto prestigiosa per farla vendere significa sostenere e sapere che all'interno di una famiglia media per esempio in italia chi prende le scelte di spesa con ogni probabilità in qualche caso anzi in molti casi sarà l'uomo questo racconta molto del nostro modo di vedere noi stessi le pubblicità delle auto sono una cartina di tornasole sociologica che io mi invito a guardare ma mi invito a guardare tutte le pubblicità da quella famosa del mulino bianco che ormai ci ha stancato della famigliola felice della cosa che non esiste perché a colazione non si è felici è illegale essere felici a colazione eppure la pubblicità delle del mulino bianco ci racconta ancora la famiglia felice e ci racconta con un'evoluzione nel tempo io ricordo ancora le pubblicità del mulino bianco in cui la mamma aveva il era vestita da casa se ne rimaneva a casa pare apparecchiava per tutti dava un bacio al marito che andava al lavoro eccetera 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 quindi diciamo strutturava l'idea di famiglia patriarcale novecentesca in cui il marito lavora e la donna sta a casa ma anche oggi se vi guardate le ultime pubblicità di questo tipo di merendine pur avendo una parità tra uomini e donne nel senso che anche la donna va al lavoro come l'uomo e questo le viene riconosciuto state molto attenti agli ultimi 5 secondi di quella pubblicità quando tutti escono di casa chi si ferma a rassettare a sparecchiare esatto si ferma la mamma per questa costruzione ancora molto novecentesca che cosa c'entra questo con la nostra comunicazione c'entra col fatto che tutto è fonte comunicativa e noi siamo immersi all'interno di una comunicazione pervasiva e fortissima che ha nel nostro caso specifico nel fascismo storico un ottimo trampolino di lancio per comunicare se stessa gli ultimi dieci minuti di questo incontro li vorrei spendere e sprecare dieci minuti per me poi spero ci siano delle domande e non degli insulti li vorrei investire non sprecare parlandovi di una cosa che ci passa sott'occhio tutti i giorni ma che modifica ogni giorno la nostra percezione della realtà e della realtà storica ovvero sia i meme tutti voi sapete cosa sono i meme dai banalmente il meme è un'immagine iconica cioè un'immagine autorappresentativa della realtà che una data comunità riesce a riconoscere la parola meme deriva dalla biologia da richard hawkins che nel 1976 scrive il gene ignorante che parla appunto della possibilità della possibile capacità delle culture di passare conoscenza come come la genetica la memetica di passare conoscenza da un da una struttura sociale all'altra però voi e noi non conosciamo la parola meme per questo per noi i meme sono quelle immaginette che girano all'interno di internet e di un internet particolare cioè l'internet nato dalla rivoluzione comunicativa degli anni 2010 nel 2010 i nostri smartphone i nostri cellulari perdono i tasti e acquistano in schermo e da quel momento in poi è una gara a riempire questo schermo di immagini e significati sempre più alti l'internet che viviamo noi oggi spessissimo è un internet da social barra da smartphone i meme sono l'apice di questo modo di utilizzare a livello comunicativo gli smartphone sono delle immagini iconiche dicevamo cioè delle immagini autorappresentative che raccontano qualcosa già a vederle per una classe qualsiasi quali siete voi l'immagine del vostro prof o della vostra professoressa è un'immagine iconica perché tutti voi lo la conoscete tutti voi sapete quali siano i suoi difetti i suoi pregi e quindi nel momento in cui avete una immagine del o della professoressa sapete già di cosa state parlando ora se ci sono insegnanti all'ascolto non se la prendano però sappiate che con ogni probabilità siete diventati dei meme nel corso degli anni e non lo sapete fa parte del gioco credo dovrebbe essere sindacalizzato e messo e messo a paga però la vostra immagine circola e circola per lo più per prendervi in giro siate ironici se li trovate e anzi vantatevi del fatto che i vostri alunni e le vostre alunne abbiano speso tempo per eternarvi in un meme dicevamo meme immagine iconica per una comunità autorappresentativa un'immagine iconica è per esempio papa francesco tutti noi lo riconosciamo nelle immagini infatti è un una soggetto che spopola nei meme ma a livello storico adolf hitler è un'immagine iconica addirittura i semplici baffi di adolf hitler sono un'icona perché rimangono nell'immaginario collettivo e anche benito mussolini è un'immagine iconica perché tutti voi che probabilmente non avete mai frequentato un dipartimento di studi storici e probabilmente non avete nemmeno simpatia per il soggetto almeno spero che sia così lo riuscite a riconoscere all'interno di una serie di immagini che vi vengono rappresentate è perfetto per i meme benito mussolini come lo è adolf hitler a questa immagine iconica di meme viene solitamente affiancato non sempre ma è molto spesso così un testo un sottotesto che di solito ha significato ironico e che vuole trasmettere un messaggio questo testo deve essere molto corto molto veloce perché questo tipo di comunicazione richiede velocità e il passaggio tra immagine iconica e testo crea quello che noi sappiamo essere il meme cioè questo cluster di comunicazione veloce sintetica che dice un sacco di cose ovviamente al 99 per cento ironiche ma che ha una forza comunicativa incredibile perché con pittogramma è un geroglifico egizio è qualcosa che corre molto più velocemente di un testo e dice molto molto di più di una semplice immagine perché connubio semplificato tra le due vi faccio un esempio quando io scrissi il primo dei libri dedicati alla figura storica di mussolini mussolini ha fatto anche cose buone venni subissato da un meme che girava e gira ancora oggi ovviamente ormai è fuori moda perché è passato più di un anno che girava sui social e che mi ha fatto molto ridere all'epoca e l'immagine iconica era era così c'era mussolini con il cappello da maresciallo dell'impero quindi con l'alto uniforme addirittura colori riconoscibilissimo impettito ovviamente l'immagine era stata photoshopata e a mussolini era stata erano stati messi dei guanti da forno con cui il duce portava una crostata questo meme l'immagine del duce con in mano una crostata e era accompagnato da una scritta sotto ha fatto anche cose buone ora all'epoca io mi sono scompisciato raccontare il meme è come spiegare le barzellette non funzionano benissimo però se voi andate a vederlo l'immagine è molto chiara ha fatto anche cose buone significa ovviamente la frase che tra l'altro riprendeva il titolo del libro significava semplicemente dire che quest'uomo per fare qualcosa di buono dovesse cucinare dovesse fare appunto una crostata ci sono pacchi quintalate di meme su mussolini che parlano in questo modo di lui e che sostanzialmente lo prendono in giro qual è la forza di questo meme di questa immagine è il fatto che che voi ve ne rendiate conto o meno passa un messaggio attraverso questo meme instagram è pieno di pagine history memes history left memes io ne seguo a decinaia perché perché mi piacciono ogni tanto lo spaccio per lavoro ma in realtà mi scompiscio sempre a vedere queste immagini passano dei messaggi molto chiari che noi apprendiamo e attraverso queste immagini passano anche delle letture che ci crediate o meno di carattere storiografico l'esempio del meme mussolignano che vi ho fatto è molto chiaro cioè rappresentare un dittatore con in mano una crostata è sminuirlo e prenderlo in giro e scaricarlo di tutto un contesto storiografico che invece potrebbe barra dovrebbe avere perché se io vi racconto benito mussolini come quello che per fare qualcosa di buono deve farsi una crostata e quindi implicitamente dico che non ne ha combinata una giusta allora dimentico banalmente di dare al mio interlocutore quella cui mando il meme un'immagine un po più ampia un messaggio un po più storicamente basato del dittatore ovvero se vi dovessi raccontare benito mussolini ve lo racconterei come lo racconta la storiografia come l'uomo che ha usato il gas asfissiante contro le popolazioni in libia e in etiopia e questo non fa ridere come l'uomo che ha privato della libertà una quarantina di milioni di italiani per vent'anni come l'uomo che ha ordinato dei bombardamenti terroristici nei confronti per esempio della città di barcellona 16 17 18 aprile 1937 interi quartieri della città rasi al suolo per vedere l'effetto che fa cioè per provare la guerra terroristica questo non fa ridere potrei parlare di mussolini come dell'uomo che ha mandato consapevolmente a morire decine anzi centinaia di migliaia di soldati in avventure militari mal organizzate in grecia nei balcani in russia sempre in spagna in libia in etiopia e questo non fa ridere come l'uomo che ha provocato la distruzione di due milioni di case nel nostro paese attraverso una guerra sconsiderata che non era riuscito a governare come l'uomo che ha prolungato di oltre 20 mesi la resistenza di una parte del paese alla liberazione e che ha portato decine di migliaia di morti in più rispetto alla semplice guerra che aveva raccontato ecco questo non fa ridere i meme di mussolini sì ma lui no perché perché meme arriva in maniera più diretta a un sistema di comunicazione molto più leggero non pensiamo banalmente di fare storia quando facciamo un meme non lo penso nemmeno io e non ci rendiamo però conto che i messaggi passano più o meno indipendentemente dalla capacità anche che noi abbiamo di costruirli e che uno dei concetti chiave per sfuggire e quindi per mettere finalmente fine alla terribile lunghissima rivoluzione del della comunicazione mussoeniana è quello di superare il modo di comunicare chiamiamolo così fascista e di ridare peso al contenuto più che al contenitore certo è una cosa difficile certo che fare approfondimento è qualcosa che evidentemente annoia di più e non vi sto chiedendo di fare gli sgobboni o di fare tutti noi degli sgobboni attorno alle immagini attorno alle strutture di comunicazione di cui siamo permeati vi chiedo semplicemente perché viviamo in un'epoca di comunicazione così veloce di riflettere su due passaggi che sono fondamentali e che anche in questo caso sono parte integrante di quello che è stata la lezione fascista nei confronti della comunicazione prima di tutto quando ricevete un messaggio pensate a chi può avere strutturato questo messaggio e quindi banalmente se il vostro amico vi manda un meme scemo su i cavalieri templari a gerusalemme non so se avete amici del genere io purtroppo ho un'età e li ho gli amici così vedo che anche di Cristofaro sorride anche a lui sarà capitato di imbattersi in questo tipo di cose e capite il perché ve lo manda come ve lo manda e come si struttura se però invece questo tipo di comunicazione viene fatto in maniera più istituzionale banalmente se sono dei siti di politica a utilizzare i meme allora fate il secondo passaggio chiedetevi perché utilizzano questo tipo di comunicazione chi e perché sono le domande che risolvono più della metà dei problemi che tutti noi abbiamo con la comunicazione di tutti i giorni che vanno dal mancato like alla fotografia che abbiamo messo sul nostro social di riferimento alla costruzione di una comunicazione pubblica nei confronti di determinati temi e valori noi abbiamo in questo secolo che passa dalla rivoluzione del microfono a quella della tastiera chiamiamola così una costante abbiamo sempre avuto dei singoli che parlano non interrogati a delle moltitudini il profilo twitter di donald trump o appunto la piazza del 2020 la piazza virtuale dei social del 2020 uguale alla piazza fisica degli anni venti del novecento la vera grande e vero grande passaggio della comunicazione sta nella dal mio punto di vista dal punto di vista di chi si occupa di comunicazione in maniera diretta sta nel rallentamento e nella costruzione plurale di questa comunicazione noi abbiamo dei social che ci chiudono all'interno della nostra bolla di sapere banalmente perché l'algoritmo di facebook che è la madre di tutti gli algoritmi ci fa vedere solo le cose che ci piacciono dopo un po che noi abbiamo scelto una linea vediamo solo quello ci toglie il contraddittorio che è banalmente uno degli aspetti secondari ma non secondari proprio della comunicazione totalitaria degli anni trenta regola d'oro di una cosa efficacemente come fascista evita che gli altri la contrastino in secondo luogo e qui concludo veramente dobbiamo essere consci che tutto quello che è attorno a noi è comunicazione che tutto quello che attorno a noi dice delle cose e attenzione è una vecchia regola che riprendo dagli storici degli anni trenta da marc bloc da lucian fevre non solo quello che vedi e trovi ti dice qualcosa ma anche e a volte soprattutto quello che non vedi e quello che non trovi chiedetevelo a livello storiografico perché non ci sono espressioni di dissenso negli anni trenta del novecento in italia banalmente perché non erano permesse non dovevano sopravvivere e quindi guardando quello che non c'è vi renderete conto anche che quello che c'è evidentemente ha una propria storia ultimamente si è sentito molto parlare per esempio dei da di consenso al fascismo ecco banalmente non fate l'errore anacronistico di pensare che l'idea di consenso negli anni trenta sia l'idea di consenso che può avere un politico oggi perché non c'era tutta la capacità informativa di allora perché era stato messo in piedi un meccanismo per torcere il consenso clientelare alla popolazione e perché gli anni trenta del novecento non sono gli anni venti del nuovo millennio badate a quello che manca badate a quello che c'è quando qualcuno comunica chiedetevi chi è e perché lo sta facendo questa è una regola valida non solo negli archivi che qualcuno di voi in questo momento sta esplorando per costruirsi una nuova idea un'idea più strutturata mi riferisco al progetto istituto storico della resistenza di modena un'idea più strutturata di quello che significhi l'impatto della comunicazione nella vostra città ma anche perché banalmente vivendo nel mondo in cui viviamo abbiamo veramente bisogno di costruirci una nostra palestra della comunicazione per imparare a che cosa che cosa accade attorno a noi e per imparare banalmente a vivere in un mondo in cui dire una cosa e farla beh vede il dire questa cosa più importante di farla e io qui concludo forse sono andato anche un po troppo lungo ringrazio chi è sopravvissuto a questa tirata e adesso lascio la parola a manfredi a matteo e soprattutto se ci sono delle domande a chi vorrà farmele grazie grazie francesco filippi intanto tantissime suggestioni tantissimi punti toccati per chi vuole fare delle domande abbiamo un procedimento adesso non voglio dire un po lungo però insomma dobbiamo passa un po di tempo da quando le eventuali domande vengono inviate quando noi le riceviamo quindi intanto se non so se manfredi se tu hai delle domande da porre mentre aspettiamo che eventualmente arrivino anche le altre no io credo che qua è arrivata più che una domanda un pensiero direi di alexandro gatto che dice ci sono sempre le censure da parte di chi le mette ora non forse non mi ha chiarissimo quello emette mette insomma però credo che in qualche modo ponga il tema di la narrazione che sia che si compone di noi stessi una narrazione che noi vediamo anche del passato necessariamente passa attraverso un processo di ricostruzione narrativa che si basa anche sui processi di censura cioè come se qualcosa che ci appartiene inevitabilmente non è al quale non non si può prescindere e forse potrebbe essere interessante rispetto a questo anche riprendere un po il tema della verità storica che che ti hai sottolineato in maniera critica almeno mi è fatto assolutamente giusto ieri sera tanto per darvi l'idea di quanto io sono una persona noiosa dopo ero finito di fare un mio webinar ho assistito a una bellissima dal mio punto di vista intervista a un un amico un maestro e un mentore come david bidussa che parlando di un maestro di tutti noi claudio pavone in questa intervista sottolineava una cosa che secondo me non non viene sottolineata mai abbastanza all'interno del campo della storia e cioè gli archivi e più in generale le fonti ma lui si riferiva david bidussa a proprio agli archivi raccontano il certo non raccontano il vero ecco all'interno di questa frase ripresa da da dai grandi maestri della storia del novecento noi possiamo comprendere qualcosa che alexandro sottolinea in maniera secondo me corretta e accurata noi di quello che sopravvive dall'allora e l'oggi possiamo avere solo la certezza di quello che vediamo ma tutto il lavorio che sta dietro a quella che io definirei interpretazione storiografica passa proprio attraverso al capire come mai questa fonte è arrivata fino ad oggi e in che modo questa fonte sia arrivata fino ad oggi vi faccio un esempio io di formazione sono un modernista cioè mi sono formato a scuola all'università nel periodo che va grosso modo da 400 al 700 e che è un periodo in cui scoppiano gli archivi in cui la gente scrive un botto di roba e infatti i modernisti sono molto più sfortunati dei medievisti da questo punto di vista perché hanno molta più roba da leggere quelli che hanno più roba di tutti da leggere sono i contemporaneisti perché banalmente tutto quello che che si salva dalle catastrofi della storiografia purtroppo per la fatica degli storici è nostro è nostro pane quotidiano in questi archivi che cosa sopravvive ecco se noi andiamo a vedere quello che sopravvive per esempio è gli atti notarili cioè le compravendite e chi conserva questi atti notarili di solito chi compra per avere la sicurezza della carta in mano che qualcosa è realmente mio tenere un archivio costa tenere insieme delle carte è uno spreco o meglio un insieme di carte è un insieme di un spreco di spazio scusatemi è uno spreco di energie come potete vedere sia io che manfredi che matteo abbiamo dietro di noi degli archivi veri e propri di cosa che vogliamo tenere e che rubano spazio libri fotografie terribili per quanto mi riguarda eccetera 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 questo implica uno sforzo tutto quello che implica uno sforzo di conservazione viene conservato per un motivo allo stesso modo per cui ad un certo punto ogni tanto si passa in camera e si buttano le cose che non servono più a livello storiografico è importante comprendere questo è importante capire che nella storia ci sono censure ma che al contempo ci sono le censure sono di vari tipi quello che non voglio si sappia quello che faccio io come autocensura perché non voglio che sembri che si sappiano determinate cose e poi ci sono anche le cosiddette censure del tempo i più grandi censori della storia sono i topi che mangiano le pergamele o gli incendi che bruciano le librerie e le biblioteche da questo passaggio cioè da questo tipo di ricostruzione evidentemente deve passare l'idea di una storiografia moderna e compiuta dirò una cosa in più se voglio notate in maniera molto schematica voi dico ragazzi che frequentate i nostri tristi ma neanche i nostri bei ultimamente manuali di storia noterete come solito di solito accade anche in filosofia che ci sono dei passaggi che ad un certo punto che ne so ad un certo punto gli esseri umani scoprono che ci sono altri continenti l'epoca delle esplorazioni ad un certo punto gli esseri umani scoprono che ci sono i diritti i diritti dell'uomo l'epoca delle rivoluzioni ad un certo punto gli esseri umani scoprono le nazioni bla 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 avete capito l'esempio questo modo di raccontare la storia è evidentemente un modo di raccontarla ex post perché quelli che scrivono i manuali sanno già come andrà a finire che ci crediate o meno gli uomini del 500 il 99,9 per cento degli uomini del 500 non si erano resi conto di non essere più uomini medievali ma di essere uomini moderni banalmente perché non avevano saputo che fino a vent'anni prima erano uomini medievali non dimentichiamoci che la nostra storia in questo caso cerco di rispondere a manfredi sull'idea della verità storica che è un termine che nel corso del tempo ha perso il proprio valore siamo più in un mondo oggi di interpretazione storica perché è sempre vera dal mio punto di vista la vecchia lezione di benedetto croce che ne ha dette tante ne ha detto anche qualcuno di giusta e cioè che tutta la storia è storia contemporanea perché banalmente la storia è comunicazione è comunicare qualcosa dal passato al presente proprio come vi spiegavo all'inizio no la comunicazione da a b c'è un rapporto tra quello che manda il messaggio e quello che il messaggio lo legge allo stesso modo la storia e i fatti storici del passato ci comunicano qualcosa ma sono gli occhi di chi li legge e l'animo di chi li assimila che li interpretano in determinato modo e per questo banalmente che oggigiorno delle statue di generali confederati nel sud degli stati uniti non sono più accettate mentre una volta erano state erette simbolicamente perché quel messaggio storico cambia nel momento in cui degli occhi nuovi lo leggono ecco perché tutta la storia è storia contemporanea ed ecco perché il protrarsi di censure protrarsi di attenzioni più o meno valide al modo di comunicare è l'oggetto stesso oggi di una parte molto consistente del sapere storico della conoscenza storica e che fa una grande differenza tra quello che è il dato storico e quello che della storia si percepisce quella che io banalmente ma non troppo ogni tanto definisco storia della mentalità c'è un enorme differenza tra quello che è accaduto ieri e quello che noi pensiamo di ciò che sia accaduto ieri vi faccio un esempio ultimo e poi concludo perché vedo che sono arrivate altre domande prima di connetterci stavamo parlando di un fatto accaduto ieri è scomparso il calciatore Diego Armando Maradona giusto ieri e io l'ho buttato come un fatto perché è un fatto che l'uomo sia scomparso e da questo primo stimolo io Matteo Manfredi e anche Francesco che voi non vedete ma che è la persona che rende possibile il fatto che che voi mi sentiate quindi è colpa sua se siete annoiati da un'ora e quaranta e abbiamo avuto quattro letture diverse le ha avute anche Tressi una lettura un po più edulcorata perché evidentemente il tema calcio non la toccava come toccava noi Tressi che tra l'altro sta facendo un ottimo lavoro dietro le quinte per passarci le vostre comunicazioni e che ringrazio in diretta ora che cosa significa che il fatto della scomparsa nella persona ha avuto quattro interpretazioni diverse nel fare di un singolo momento di chiacchiera tra l'altro in attesa di fare qualcosa moltiplicate questo per la storia dell'umanità letta oggi o letta domani tutto quello che cambierà è per quello che personalmente io ma altri di quella che è la mia scuola preferiamo evitare di parlare di verità storica ma discindere tra i fatti storici l'Italia ha perso la guerra Diego Armando Maradona non c'è più e l'interpretazione e l'impatto che questi fatti hanno sul presente vedo delle domande me le leggo Carlotta della casa quindi la pubblicità di un'auto con protagonista una donna è meno efficace oltre alle auto per quali altre pubblicità è così rispondo prima alla seconda domanda per tutte le pubblicità tutte le pubblicità sono pensate per un determinato pubblico è evidente che i pubblici vanno sondati e anche questa è una cosa che si impara nelle piazze dell'inizio del novecento Benito Mussolini sa benissimo che cosa piace o non piace sentire all'uditorio che ha davanti un qualsiasi politico che debba fare un politico un un comizio scusatemi oggi si informa su quello che è accaduto nella cittadina in cui va a fare il comizio per parlare delle ultime cose che sono accadute per arrivare al parossismo di chi spostandosi da un comizio all'altro prende possesso fisicamente di questo di questo posto ma che ne so mettendosi una maglietta con il posto e quindi dicendo io conosco il luogo in cui state tanto è vero che me lo porto dietro no e questa è la risposta alla seconda domanda oltre alle auto per quali altre pubblicità così per tutto per tutti i sistemi di comunicazione in cui la gente paga per avere un messaggio per tutto quello che è stato costruito attraverso una un un ufficio pubblicitario una una pubblicità di un'auto con protagonista una donna non è meno efficace ma ricostruisce ovviamente anche perché banalmente una panzana pensare che spese di questo tipo vengano prese semplicemente dal capo famiglia per fortuna non siamo più negli anni 60 del 900 e significa semplicemente ricostruire il target il brand di un determinato di un specifico prodotto io ovviamente ho massimizzato ho fatto un discorso passatemi il termine massificante di quella che è la pubblicità che vediamo e ho parlato dei prodotti che più difficilmente possono essere collocati per per sensatezza perché diciamoci la verità avere un mastodonte da 20 tonnellate per portare i bambini a scuola in una città come Modena in cui non ci sono rilievi da scalare è un'insensatezza logica e quindi è ancora più bravo dovrà essere quello che vi vende sta cosa che tra l'altro costerà un sacco quindi dipende molto anche e si capisce la chiave di lettura di una pubblicità individuando il target una pubblicità in cui protagonista una donna e una pubblicità di un'auto in cui una protagonista una donna è una pubblicità che parla di un'auto con determinate caratteristiche che se vuole se volete se vogliamo possiamo divertirci a scoprire a trovare però scoprendo il giochetto seconda domanda Giulia Bedini se non ricordo male anche a seguito del 1792 in Francia venne momentaneamente modificato il modo in cui veniva percepito e nominato il tempo il 1792 fu però l'avvento della repubblica se ben ricordo saprete spiegarne le differenze tra questo caso e quello di Mussolini assolutamente sì tra l'altro c'è un bellissimo libro di Wuming l'armata dei sonnambuli che parla proprio di questo passaggio che vi invito a leggere io dovrei sempre il mio editore me lo dice parli troppo dei libri degli altri quando vai in giro parla dei tuoi che così li vendi il il passaggio dal tempo d'ancien regime al tempo nuovo chiamiamolo così nella Francia repubblicana del 1790 degli anni dell'applicazione del nuovo calendario è la punta estrema di quell'elaborazione illuministica che dà il via alla rivoluzione ora non è il nello specifico l'argomento di oggi però siccome nominare il tempo è una cosa che mi è sempre interessata negli studi che in cui mi sono imbattuto riguardanti quel quello specifico calendario ebbene diciamo che è una ventata di iper razionalismo che vuole mettere in campo l'idea di una suddivisione del tempo nuova perché prima esistevano diversi tipi di tempo all'interno della Francia dell'epoca e all'interno dell'Europa dell'epoca noi non dobbiamo pensare che nel 1792 mi fido della data perché non me la ricordo obiettivamente eh espressa da chi da chi ha posto la domanda e non dobbiamo pensare che prima ci fosse il calendario direttamente applicato su tutto il continente europeo per come lo immaginiamo noi ovviamente consistevano e sussistevano diversi tipi di tempo per capire quale quale sia l'afflato che nel 1790 e passa porta al cambio e alla razionalizzazione chiamiamola così dei mesi del calendario dobbiamo pensare che contemporaneamente in Francia si fa un'altra cosa e cioè la razionalizzazione delle misure come la misura del tempo viene ristrutturata per esempio per la prima volta nella Francia alla fine del settecento si tenta di fare un sistema universale di misurazione nascono il metro il metro con una propria definizione il le misure di capacità tutte le misure che oggi per esempio possiamo trovare all'istituto eh superiore delle scienze a Parigi in cui eh vengono conservati i campioni di questo modo di misurare il mondo la differenza eh tra questo modo razionalizzante che vorrei passare anche per universale nel senso che eh chi lo fece nel 1790 credeva di essere la punta avanzata di un'avanguardia che doveva riscrivere le regole del mondo in maniera razionale l'operazione mussolidiana è una chiara appropriazione del tempo cioè la costruzione di un tempo fascista che effettivamente rimane non a sostituto di quello diciamo volgare di quello che tutti noi conosciamo ma va in aggiunta sulle carte ufficiali del fascismo negli anni trenta potrete potete trovare la data e poi la data fascista è un'aggiunta al tempo nuovo è un ri raccontare il tempo che non è un'opera di razionalizzazione è un'opera di occupazione di spazio anzi di tempo pubblico dovrebbe risposto e l de sensi può dirci qualcosa del modo di comunicare l'immagine della famiglia da parte di Mussolini e delle eventuali connessioni sulla visione conservatrice in alcuni momenti si ripresenta in italia sì sì assolutamente sì Mussolini fa della doppia costruzione nemmeno della famiglia sarei più specifico la doppia lettura della donna fa un must della politica italiana e attenzione il fascismo in questo caso non inventa nulla ma si appoggia sulla grande terribile tradizione del patriarcato italiano che in Italia vedeva una forma familiare ben chiara il fascismo mussoliano non fa altro che copiare questa visione e rincararla di significati la donna nuova fascista che deve nascere è una donna nuova in quanto deve aiutare in tutto l'uomo nuovo fascista come facendo figli preferibilmente maschi facendo da mangiare rassettando a casa non rompendo le scatole questa visione non è solo fascista ma è blandire a livello comunicativo quella che è la maggioranza di chi dettiene il potere all'epoca cioè gli uomini è titillare l'immagine che gli uomini italiani hanno della donna italiana perché parlo della famiglia e della visione della donna del nell'ambito del duce perché convivono come in ogni cultura prettamente macista le due figure in maniera plastica e cristallina benito mussolini è l'uomo che ha al suo fianco donna rachele fatto questa donna messo di così che diventa l'archetipo donna rachele guidi una persona che è una contadina che lui sposa giovanissima e che gli dà un sacco di figli è l'archetipo di quella che è la donna nella famiglia che deve essere la donna nella famiglia italiana sta a casa non si fa vedere cura la famiglia c'è sempre in una cristallizzazione dell'immagine della perfetta madre che deve essere la donna italiana ma al contempo e lo sanno tutti e anzi viene pubblicizzato il maschio italiano rappresentato da mussolini è anche il maschio conquistatore erotico ed ecco che l'altra grande donna della del racconto fascista per esempio anzi dopo gli anni trenta soprattutto è claretta petacci claretta petacci che diventa una sorta di fidanza amante ufficiale del duce e anche lì come donna rachele è la domina la signora della casa clara petarà petacci tra l'altro passa abbondantemente i 40 continua ad essere chiamata claretta col diminutivo quasi a darle una funzione lolitesca da oggetto da oggetto sessuale qual è il ruolo di claretta petacci è quello di dimostrare che il duce è un maschio vero un maschio conquistatore in questa visione ovviamente arcaica e passatemi i termini dal mio punto di vista abbastanza disgustosa di quella che è la donna italiana una visione terribilmente attaccata al tempo tanto da essere il cliché che sopravvive al fascismo e che fa della dell'italia uno dei paesi che ancora oggi hanno più problemi con la visione della donna non devo parlarvi della trasmissione che ieri pomeriggio in maniera sconsiderata è andata in onda per raccontare alle massaie italiane anzi spoiler io faccio la spesa perché non c'è nessuno che parli dei massaie italiani che fanno queste cose vorrei ragionarci comunque ieri è andato in giro uno dei pezzi più bassi della tv pubblica italiana che tutti noi paghiamo c'era una una ragazza avvenente che spiegava come fare la spesa in modo sexy e questo fa parte di un retaggio di costruzione dell'immagine femminile che il fascismo ha portato con sé e che riverbera ovunque il fascismo è quello che che porta avanti l'invasione dell'etiopia attraverso un racconto sensuale dell'abissine faccetta nera bella abissina aspetta e spera che già allora si avvicina una canzone che ha un carattere sessuale fortissimo e che promette purtroppo violenze sessuali alle donne conquistate tant'è vero che poi nel 37 verrà vietata nel 36 verrà vietata perché perché i maschi italiani in colonia fanno quello che non dovevano fare cioè si prendono le donne abissine e creano nuovi bambini che a quel punto il regime non sa se possano essere razzialmente italiani o eh o indigeni o o sudditi coloniali quindi sì assolutamente l'immagine della donna di oggi è il riverbero di quello che che il fascismo non non ha raccontato della donna scusatemi se vi scuoto ma vi sto mettendo sotto carica altrimenti mi sparite tutti e 400 spero aver risposto a questa domanda giulia zini secondo lei grazie a cosa si è riusciti a evitare un secondo emendamento eh emendamento penso il mandato di trump collegandomi con l'incontro di qualche giorno fa la sua compagna elettorale e azioni durante la presidenza per quanto siano differenti da molti punti hanno punti hanno molti punti in contatto con quella di Mussolini e hm diciamo che non non direi che 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 trump è mussolino ehm c'è un altro per evitarmi querele direi che eh trump come tutti i politici di oggi sfrutta al meglio e lo fa meglio di altri obiettivamente le eh strumentazioni tecnologiche che ha sotto mano come siamo riusciti a evitare eh questo noi in realtà comprende anche persone come me lei che a queste elezioni non hanno potuto partecipare perché non siamo cittadini americani almeno io no diciamo che ehm da un certo punto di vista da sempre da da moltissimo tempo anzi da che ne ho memoria le e da che ne ho memoria storica cioè da da quando me ne occupo le elezioni americane sono state il trionfo della comunicazione sulla concretezza ricordiamoci che in un incredibile scontro Nixon eh Kennedy eh per la prima volta mandato in tv fu il candidato più telegenico il giovane e bel JFK a vincere su Richard Nixon che diciamoci la verità eh come dimostra anche Futurama eh non ha proprio il physique du rôle dell'uomo simpatico e che si è giocato alla presidenza perché sudava ecco eh l'immagine pesa tantissimo ma io non parlerei di un trumpismo muscoliniano io parlerei di una politica schiava ancora degli stilemi messi in piedi dal fascismo muscoliniano tutti hanno un account Facebook tutti i politici di un certo rilievo se a voi viene eh Facebook Twitter Instagram qualcuno ha tentato anche su TikTok e se a voi vengono in mente solo eh alcuni profili e non altri se a voi viene in mente che su Facebook eh c'è Salvini ma non ma non sapete del fatto che ci sia Zingaretti tanto per dirne una il motivo non è che eh fanno cose diverse è che qualcuno lo fa meglio e qualcuno lo fa peggio appunto in un mercato della comunicazione che premia determinati passaggi in cui Trump è stato molto bravo fino ad un certo punto ma evidentemente non ha sufficienza per beccare l'universo mondo della comunicazione del grande tema complesso eh americano poi vediamo da qui a venti di gennaio come va tra l'altro Giulia alexandro che torna come succede per pubblicità sui prodotti per la casa ci sono maggiormente le donne è vero è vero assolutamente vero e anche se ci sono dei passaggi interessanti non so se avete presente la pubblicità di casa sull'ace appunto eh che è fortissima e che si rifà su un altro stereotipo lì è un maschio italiano tipico che prova ad essere indipendente ma stereotipo dell'italiano medio senza la mamma non si riesce a portare a casa nulla quindi è un'evoluzione che è un po' un'involuzione ogni pubblicità ha il proprio target e ogni pubblicità tocca determinate corde che non altre tra le più interessanti quelle del cibo per gli animali perché lì devi pensare devi entrare nella mente del padrone di come il padrone vede il gatto o il cane e lì racconta molto di una società come la nostra che piange per la morte degli animali ed è giusto che sia così ma meno si sensibilizza per la morte che ne so per esempio delle persone in mare anche in questo momento Davide più Giordano dato che sono stati menzionati i meme tutto ciò che c'è dietro cosa ne pensate del loro uso in ambito aziendale corporate che spesso ne snatura il messaggio iniziale rendendo di mere pubblicità tutto quello che è comunicazione efficace è valido per la comunicazione vi svelo un segreto io sono uno di quelli che usa addirittura i meme per fare lezioni di storia ma sono tra quelli che ritengono che non si possa studiare storia attraverso i meme sia una banalità ma semplicemente sia un modo per fissare quelle che sono delle informazioni che però si devono cogliere in altro modo quindi diciamo che io sono uno di quelli che a fine lezione sgancia il meme sulla sulla lezione del giorno sperando che siamo simpatici poi mi rendo conto che l'età mi sta facendo diventare sempre più didascalico quindi ultimamente mi affido anche a dei ghostwriter di vent'anni che mi fanno i meme lo ammetto però diciamo che in generale tutto ciò che è comunicazione efficace ha un valore se poi determinate aziende mi spiace magari la sua non lo sanno fare bene dovrebbero imparare a farlo perché i meme sono efficacissimi non sono l'unico strumento a cui mi affiderei per costruire messaggio velocemente gianmaria macchioni qual è il meccanismo delle comunicazioni si fa determinare acquisto di un determinato prodotto wow allora cominciamo le prossime tre ore di webinar attraverso l'analisi questa domanda e il meccanismo della comunicazione è troppo esteso e complicato per ridurlo velocemente ho cercato di farlo trasferire in determinati aspetti con determinati esempi la comunicazione si basa su un la creazione di un rapporto innanzitutto tu ti devi fermare a vedere qualcosa ad ascoltare qualcosa a sentire qualcosa che è gli italiani di cui parlavo ormai quasi due ore fa che è il lo stacchetto pubblicitario che è la cosa infamissima che tutti noi odiamo della pubblicità che due gradi di volume più alta rispetto al film porca miseria perché perché richiama l'attenzione non starò qui a a parlarvi dei mille modi per fare comunicazione anzi mi spiace perché sarò largamente deficitario se non macchioni però cosa comporta l'acquisto di un determinato prodotto il punto di vista emozionale che è molto irrazionale qualcosa ci deve piacere vi è mai capitato quella cosa molto brutale per cui passate anni con in mano una cosa come questa e vi piace molto quantomeno non la discutete è uno smartphone perché ho la telecamera molto bassa di definizione ve lo dico e a un certo punto vedete una pubblicità abbast così efficace da farvi notare che questo non vi va più bene e che dovete assolutamente prenderne un altro a me capita purtroppo abbastanza spesso e per fortuna come ogni acquistatore compulsivo accanto persone che mi dicono che fa tranquillamente bene quello che già possiedo e non devo possedere altro quella clip emozionale quando scatta ed è una clip emozionale che scatta dappertutto dalle religioni ai partiti politici al detersivo è quella cosa che ti fa cambiare quel cambiamento emozionale è la base della comunicazione banalmente scegliere di ascoltare qualcuno leonardo pesavento secondo voi l'attuale destra italiana può essere legata al fascismo diciamo che la destra italiana sono io sono uno storico mi occupo di gente morta quindi posso dare solo un'opinione più diciamo ampia e non è appunto un'opinione non dati certi su questo io banalmente prendo atto di una cosa che uno dei tre partiti citati fratelli d'italia ha nel proprio simbolo di partito la fiamma tricolore che il simbolo del partito fascista ricostituito nel dicembre del 1946 il movimento sociale italiano e che per 50 anni ha rappresentato i fascisti all'interno della politica parlamentare chiamiamola così e istituzionale italiana quindi diciamo che di queste tre famiglie di questi tre partiti almeno uno ha a un retaggio diretto un richiamo diretto a quello che è il passato anche fascista di questo paese a meno che non si voglia sostenere che il movimento sociale italiano non sia stato un partito fascista però in questo caso si andrebbe contro la definizione che ne diede più di una volta lo stesso fondatore Giorgio Almirante gli altri partiti come tutti i partiti giocano sulla tentativo di accapararsi dei voti e questo è banale ma lo fanno anche in questo caso tutti io ritengo per esempio che alcune uscite di alcuni rappresentanti di uno di questi tre partiti non parlo di fratelli d'italia perché ne ho già parlato non parlo nemmeno di forza italia le uscite di alcuni rappresentanti di questi partiti siano un tentativo di toccare stimolare un determinato tipo di elettorato che evidentemente ha delle simpatie nostalgiche quindi io girerei il problema non è che ci siano oggi dei partiti politici in italia legati direttamente al fascismo direi che in italia ci sono dei gruppi di elettori legati direttamente alla nostalgia del fascismo non ho risposto volutamente in maniera diretta ma credo si capisca lipo bergamini a che cosa si riferisce la frase ne sarete voi degni a una delle espressioni che venne usata nel discorso mussoeniano del 10 giugno del 40 quando si chiese direttamente al popolo italiano di combattere la guerra per la propria missione ed è la domanda cardine è la domanda che effettivamente poi nel discorso accantonato perché sono perché ho mucchiato molta roba nel cascinale quel ne sarete voi degni è la domanda che il duce fa al proprio popolo nel momento in cui gli chiede di entrare in guerra e il popolo italiano per bocca di quelli che erano in piazza venezia risponde sì ed è un sarete voi degni è una tecnica di comunicazione che il fascismo fin dall'inizio degli anni 30 applica dicendo banalmente e dimostrando banalmente che si vuole instaurare quello che io avevo chiamato dialogo muto nei confronti della folla l'idea che la folla possa effettivamente comunicare col singolo sono quelle domande retoriche che il fascismo mette in piedi ma che banalmente sono ancora presenti nella comunicazione di oggi e altra cosa cosa ne pensate dell'omologazione dei pensieri attualmente in atto ricordando che l'omologazione dei pensieri è riconducibile alle dittature io sono maniera anche qui sono uno storico in maniera molto acida l'omologazione del dei pensieri è pre dittatoriale nel senso che l'omologazione dei pensieri dal mio punto di vista nasce nel momento in cui in quello che storici più blasonati di me chiamano nation building si tratta di fornire un'identità comune ad una serie di persone che devono fare delle cose insieme l'omologazione del pensiero meglio la costruzione del pensiero passa prima dittature novecentesche attraverso istituzione per esempio della scuola della scuola dell'obbligo in cui a tutti i determinati abitanti di un paese si danno delle determinate nozioni che poi possono creare degli slot di persone da utilizzare banalmente in guerra o nel lavoro e che passa alle dittature arrivando a quella che è la grande utilità dell'omologazione capitalistica della costruzione di mercati di acquisto se io voglio vendere un botto di roba posso vendere a ognuno il proprio tipo di scarpa ed è una grande fatica molto costosa o posso convincere un sacco di gente che lo stesso tipo di scarpa guarda caso quello che produco io vada bene a tutti veloce veloce si riuscirà mai a cambiare questa visione della donna non attraverso le discussioni di quarantenni maschi bianchi lo dico con un'acidità antipatica però è così non attraverso la concessione di spazi da parte di chi ora detiene il potere se non ve l'ho detto prima ve lo dico ora le pubblicità delle auto sono fatte per quelli come me per i quarantenne con un reddito maschio bianco sperabilmente eterosessuale questo lo danno per scontato perché vanno a a chilo e e quelli come me non sanno di essere al centro di un mondo che è costruito per loro la maggior parte di quelli come me non si rende conto dello brobrio che è andato ieri in onda su rai 2 nel giorno della giornata mondiale contro l'avvivenza sulle donne io faccio parte di quella categoria di persone non io nello specifico perché sono totalmente attivo al contrario in questo per esempio che non si rende conto del razzismo o meglio del del gap di genere che hanno i linguaggi che utilizziamo e non ci schiodiamo da lì non ci schiodiamo da lì come non si schiodano da lì cinquantenni sessantenni sempre maschi bianchi che in internet portano avanti la visione minimizzatrice ho letto l'altro ieri un un articolo di vittorio feltri che parlava del fatto che se una va ad una festa eh dove c'è della cocaina sostanzialmente si sta eh comprando uno stupro e non può nemmeno lamentarsi più di tanto ebbene fino a quando gente di questo tipo continuerà lecitamente eh le sarà lecitamente permesso di eh scrivere queste cose eh noi avremo un problema ma ve lo dico non sarà vittorio feltri a dire un giorno scusatemi sono circa una trentina d'anni che scrivo cagate e smetto no come ogni rivoluzione parte dagli oppressi quindi le giro la domanda carlotta della casa riuscirete mai voi donne a cambiare la visione della donna Gabriele Porsenna come come il re etrusco wow è stato un piacere ascoltare ah grazie ma ora il prof ci impone di andare a lezione alla prossima giusto cinque minuti fa grazie cosa ne pensate di tutti i gruppi di persone che tuttora vogliono riportare in Italia un regime fascista tutto il male del mondo Daniele De Borto sono le persone che hanno una visione distorta del fascismo oppure potrebbe essere un'altra motivazione dietro a tali comportamenti velocissimi la nostalgia del passato spesso nasconde anzi quasi sempre nasconde un'insoddisfazione per il presente quindi chi vuole il ritorno del fascismo evidentemente non è contento della democrazia che abbiamo oggi l'ho detta in maniera veloce e questo tra l'altro potrebbe essere uno dei 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 modi utili per vedere il fascismo il fascismo ritornante è un sintomo del fatto che la democrazia rappresentativa in questo paese al momento non sta funzionando al proprio meglio ma anziché rinunciare del tutto alla democrazia e andare sotto una dittatura potrebbe essere più sensato cercare di ricostruire un modo democratico e partecipativo di vivere ebbene sì dimostro di avere 40 anni perché parlo di democrazia partecipativa e quindi questa non ve la svelo ma chi ha la mia età e si ricorda di Porto Alegre avrà un un una lacrimuccia di fine anni eh novanta inizio anni duemila matte bellinelle grazie signori vi è la vaga possibilità che si possa replicare ciò che è accaduto nel lontano duemila tra George Walker Bush prole figlio del repubblicano controdemocratico Albert Arnold Gore cioè eh che cambino i che cambia il risultato delle elezioni non non ho ben colto la domanda se è che si ribalti il risultato delle elezioni negli Stati Uniti direi di no perché la macchina si è già avviata che si crei una contronarrativa feroce che per i prossimi quattro anni parlerà di Biden come dell'illegittimo ovviamente sì è banale dirlo speriamo che questo non scada in cose peggiori però sì c'è già eh uno dei problemi di queste elezioni americane dal mio punto di vista è che eh abbiamo un'opinione pubblica fratturata esattamente a metà che vede nella controparte non delle persone che convivono sullo stesso suolo ma dei nemici mentitori e questo vale a destra per la sinistra e a sinistra per la destra premesso che l'appetito mi rende antipatico devo dirvi che siete live da due ore ah ho letto in diretta quello che è un messaggio del nostro IT ed è ed ha ragionissima nel farlo l'ultima Davide Pio Giordano maschio bianco etero quarantenne rovina della società moderna no costruttore della società moderna l'abbiamo fatta per noi punto eh come come i boomer hanno creato eh il sistema pensionistico che adesso dà a loro la possibilità di vivere a noi no non l'abbiamo distrutta l'abbiamo creata nostra immagine eh il problema è che la nostra immagine significa che a tanti altri questa immagine non va ancora bene io alle tredici e diciassette credo è stato molto bello eh stare con voi grazie per le domande passo la parola a Matteo a Manfredi ringraziamo decisamente Francesco Filippi siamo andati un po' oltre ma insomma gli argomenti le informazioni le cose che sono state tirate in ballo erano tante e necessarie anche per creare un collegamento tra presente e passato grazie di nuovo grazie anche a chi ha partecipato grazie alle domande a chi ha posto le domande Manfredi non so se hai una parola di chiusura e poi vi lasciamo chi ancora c'è no se non ne ribadire i ringraziamenti e nell'osservare quanti stimoli siano stati posti e di quanto sia complesso leggere il presente e il passato perché nulla è mai realmente lineare bisogna sempre osservarlo nella sua complessità e profondità e questo richiede un grande sforzo che bisogna essere in grado di compiere per riuscire a sviluppare pensiero critico quindi grazie mille a Francesco grazie ancora a FEM all'istituto storico di Modena e grazie soprattutto a tutte le ragazze e ragazzi che non ci hanno ascoltato ma hanno ascoltato Francesco e l'avranno fatto con grande interesse quindi grazie ancora e a presto buona giornata e buon pranzo direi a questo punto grazie mille arrivederci grazie mille